Abbiamo pubblicato questo articolo che è venuto fuori dall'analisi dei dati raccolti a Lugiano la scorsa volta su 21 pazienti ed è di questo, l'ho usato come traccia per poter parlare delle caratteristiche di pertinenza odontostomatologica. Dico importante perché in letteratura esisteva solamente un case report e vari riferimenti ma non esisteva praticamente nulla sul cavo orale e anche sulle alterazioni, quindi il distretto craniocefalico e quello che riguarda poi dopo un risvolto terapeutico come può essere appunto un'ortopedia dentofacciale oppure anche dei trattamenti quindi ortodontici o ortopedici in genere. Quello che abbiamo visto e ve lo riassumo, ho cercato di focalizzare l'attenzione su quello che possa servire alle famiglie da portare a casa come diciamo materia di riflessione per poi dopo promuovere la salute orale. Del paziente con palester Killian, innanzitutto gli elementi che erano affetti da patologia cariosa risultavano non trattati quindi con delle lesioni cariose attive in bocca, quindi delle lesioni cavitate oppure quelli trattati erano stati trattati con estrazioni, estrazioni quindi dell'elemento cariato. Tutti i trattamenti effettuati dall'anamnesi, il risultato è che sono stati effettuati in un regime di anestesia generale quindi il paziente è stato portato in sala operatoria per effettuare i trattamenti. Abbiamo notato una difficoltà a mantenere un adeguato livello di igiene orale quindi per quanto riguarda lo spazzolamento a casa ma anche per quanto riguarda dopo il rivolgersi a delle strutture ambulatoriali, odontoiatriche del territorio per portare quindi un contributo all'igiene. In tutti i pazienti non erano presenti le sigillature preventive di solchi e fessure e foricechi che sono uno dei quattro pilastri della prevenzione odontoiatrica ossia il posizionamento sulle superfici dentali, soprattutto dei molari che presentano dei solchi, delle fessure ma anche dei foricechi, quindi un'invaginazione fisiologica della struttura, quindi dello smalto che proteggono, fanno proprio da barriera, quindi al biofilm, quindi alla placca batterica e non permettono quindi un contatto diretto tra quello che è appunto il substrato fermentabile, i batteri e quindi poi dopo la caduta di pH che porta quindi alla demineralizzazione del dente. E poi un inadeguato uso di fluoro, sul quale poi dopo tornerò più avanti perché, lo dicono in tanti, ed è vero, il fluoro protegge per tanti aspetti che vedremo e nessuno dei pazienti, quindi aveva un'esposizione, possiamo dire adeguata, quindi al fluoro sia topico, cioè in bocca, che sistemico. L'altra cosa importante che abbiamo notato è, e questo era già presente in letteratura ossia un ritardo nell'eruzione dentale, sia della serie decidua che della serie permanente quindi denti da latte o denti permanenti. e poi dopo mancavano determinati elementi dentali che a quell'età dovevano esserci soprattutto i primi molari assenti in una buona percentuale di casi, in una alta percentuale di casi e quindi c'è il sospetto che ci sia un disturbo dell'eruzione, quindi della maturazione, dello sviluppo che porta quindi a far sì che gli elementi dentari rimangano non erotti, quindi all'interno del tessuto osseo. Ovvio che questo qua, il passo successivo che ci piacerebbe fare, era quello di fare un'indagine radiografica quindi un'ortopantomografia, infatti tramite la dottoressa Carletti ne abbiamo parlato in modo tale da poter vedere esattamente se mancano degli elementi dentari quindi si parla di agenesie, e già qualcuna l'abbiamo visto perché due panoramiche l'abbiamo effettuata e qualche agenesia c'è e poi dopo soprattutto dove sono i primi molari, se ci sono, perché è raro il fatto che siano agenetici anche nelle altre sindrome che noi trattiamo, è raro che non ci sia il primo molare permanente e il secondo molare permanente e quindi provare a capire e a dire qualcosa in più su quelle che sono proprio i risvolti odontoiatrici proprio in termini di elementi dentali presenti o assenti. Per cercare adesso di focalizzare l'attenzione in base a quello che abbiamo detto su quello che possiamo fare per la salute orale del paziente affetto da Pallister-Killian parliamo appunto di lesione cariosa, quindi della patologia cariosa la patologia cariosa che nel corso del tempo ha avuto un determinato trend si parla degli ultimi anni 70 in pazienti di 12 anni quello là è un indice che si chiama DMFT che calcola semplicemente la media degli elementi che sono stati affetti da patologia cariosa oppure che sono stati estratti per carie da 7, quindi 7 denti cariati di media si arriva a 2 nel 96 e nel 2005 a 1 e quindi diciamo che sì, la patologia cariosa sta scomparendo tutta un'attività di campagna ma se ci andiamo a guardare bene dentro quindi andiamo a vedere chi ha più carie degli altri ecco che c'è una polarizzazione della patologia cariosa cioè la patologia cariosa è ancora a livelli molto alti si parla di tanti denti cariati 7, 8, 6 per bocca nei pazienti che hanno particolari necessità quindi questi pazienti di cui ci occupiamo noi abbiamo un alto valore di DMFT quindi significa che la patologia cariosa ha cambiato un po' la sua distribuzione adesso si polarizza quindi diventa un problema in più cosa bisogna fare? bisogna agire sulla prevenzione quindi bisogna arrivare a capire quali sono i fattori di rischio e cercare di evitare che appunto questo si verifichi quindi una patologia quindi tutti quelli che sono i meccanismi cercare di poterli bloccare in tempo noi sappiamo tutto ormai della carie qua ho fatto un riassunto proprio così per avere una lesione cariosa oltre all'ospite quindi oltre al dente che può essere più o meno suscettibile ad essere attaccato dalla patologia cariosa ovvio che ci vogliono dei batteri che debbano consumare dei carboidrati quindi gli zuccheri fermentabili e nel tempo e quindi il fattore tempo è un fattore molto importante si sviluppa la patologia cariosa prima con una cavitazione quindi si demineralizza la superficie poi lì si annida il biofilm e quindi va avanti questo lo dicono tutti io ho voluto citare forse la rivista che più si conosce quindi a livello proprio scientifico e ci sono tanti fattori in tutti in tutti gli elenchi comunque ci sono le patologie sistemiche i pazienti che sono affetti da patologie sistemiche croniche sindromi genetiche cromosomiche hanno un elevato quindi un elevato di MFT quindi un elevato rischio di ammalare di carie oltre a fattori poi dopo locali abbiamo anche la saliva che è l'ambiente della bocca oggi si parlava di anche con dei genitori sentivo una saliva più o meno abbondante o più o meno ricca di mucine eccetera eccetera la saliva è alterata per tanti motivi tra questi per esempio l'assunzione di farmaci che altera quindi la composizione salivare che sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo è diversa e quindi questa diciamo mancanza di un effetto tampone di un ambiente ostile ai batteri porta ad una predisposizione a sviluppare patologia cariosa e poi dopo un alto livello di un'alta conta di batteri che fanno la carie e questo qua chiama in causa anche alcune cosine che poi diremo su com'è il comportamento dell'imboccare o non invocare cercando di non contaminare il cibo che si passa e si trasferisce al bambino quindi pulire il ciuccio per esempio quindi con la propria bocca quello dipende molto dal passaggio di batteri verticale che avviene quindi dai genitori o di chi si prende cura del bimbo al bimbo o alla bimba e poi dopo ci sono patologie appunto immunologiche eccetera la stessa un'associazione all'Accademia Americana di Odontiatria Pediatrica fa un elenco qui aggiunge altre cose aggiunge per esempio la madre o chi si prende cura del bambino il livello socio-economico eccetera il consumo ripetuto più di tre alimenti giornalieri che siano ad alto contenuto quindi che siano di carboidrati fondamentalmente quindi zuccheri quindi lo stesso per esempio mescolare la bevanda a un qualcosa anche all'acqua per renderla più gradevole per esempio più di tre volte al giorno è un rischio cosa si può fare? se quella è la modalità che è stata scelta mi viene da dire che si può fare mi riferisco a lei perché ne parlavamo a tavola si fa ovviamente casomai cercando di diminuire il contenuto di zuccheri quindi facendo sempre di più uno spostamento verso 0% di aggiunta rispetto all'acqua graduale oppure come diceva per esempio una collega prima a tavola oppure aggiungendo altre cose tipo delle tisane qualcosa che dia il gusto ma che non sia cariogeno in questo senso perché tutto questo? e qua mi sposto a parlare anche dei farmaci perché molti bambini assumono dei farmaci e i farmaci molte volte sempre i farmaci pediatrici sono dolci oppure per esempio vengono aggiunte appunto a delle sostanze a dei succhi di frutta che veicolano bene il farmaco ma che fanno appunto dal punto di vista ontoiatrico dei danni sui tessuti duri del dente perché succede questo? perché una volta che noi mettiamo una sostanza acida una sostanza zuccherata in bocca viene trasformato quindi in una sostanza acida perché viene digerita dai batteri e il pH cala quando il pH cala al di sotto di un livello il tessuto del dente in automatico inizia a dimeneralizzarsi cioè le molecole iniziano a separarsi dalla struttura e questo quindi causa una perdita progressiva che può poi dopo condurre quindi a una patologia cariosa perché è più facilmente attaccabile il tessuto il consumo stesso quindi di medicina l'ho detto e quindi veicola anche con delle sostanze che vengono aggiunte quindi c'è questa immissione di zuccheri nella cavità orale l'altro elemento importante è chi soffre di reflusso gas esofageo stesso meccanismo il reflusso gas esofageo porta quindi ad una componente acida quindi in bocca e se per un determinato tempo sta lì e il pH rimane acido per un determinato tempo allora inizia la demineralizzazione e a volte qui non l'ho messo per sintesi ma lo dico molti bambini bruxano stringono i denti e questo non fa altro che aggiungere alla componente chimica anche una componente meccanica di aggressione a una struttura già intaccata diciamo e quindi c'è consumo di tessuto consumo di dentine e di smalto farmaci antipilettici farmaci di ultima generazione forse non tanto ma alcuni farmaci alcuni che vengono assunti farmaci antipilettici portano ad un'ipertrofia gengivale cioè una crescita del tessuto gengivale tale per cui si crea uno spazio virtuale tra il dente e la gengiva ospita dei batteri ospita il biofilm rende ancora più difficoltose le già difficili manovre di generale a casa e quindi complica la situazione complica la situazione quindi sia a livello dentale ovviamente perché più c'è biofilm a contatto con la struttura dentale dovuto al fatto che c'è più gengiva quindi il dente è meno lavabile meno detergibile ma anche a livello mucoso e poi ci sono le patologie mucose i pazienti sono molto respirano con la bocca sono dei respiratori orali già il solo fatto di respirare con la bocca diciamo che c'è un ambiente che non aiuta le mucose ad essere sane ci sono dei batteri che vengono selezionati quindi ci sono le strutture le mucose che non sono più diciamo toniche possiamo dire e quindi questo non fa altro che aumentare il rischio di avere patologie mucose una scarsa igiene orale delle carie non trattate perché sono delle cavità dove si annida la placca e non fa solo male al dente ma inizia a fare male alla gengiva che cresce si creano delle tasche e quindi ci possono essere delle problematiche che si chiamano superficiali profonde possiamo perdere prima di tutto cioè i denti prima del tempo e poi tante altre patologie tante altre situazioni così come nell'elenco successivo ce ne sono infinite e quindi vado avanti comunque questo è il problema cosa dobbiamo fare beh le cose da fare potrebbero essere tante ma vanno affrontate ovviamente uno alla volta lavorando un po' e secondo me la cosa fondamentale è questa cioè tutti le figure mediche che gravitano attorno alla famiglia e al paziente quindi effetto da palestrachillian lavorano di concerto quindi è un'orchestra e ci deve essere quindi un'informazione sin da subito noi lo sappiamo bene con il professor Cocchi che sin da subito vediamo bambini anche prima dei sei mesi per motivare per informare per far sì che si prenda una strada giusta anche perché all'inizio si è presi da tante cose da fare e quindi molte volte la cavità orale viene lasciata perché ovviamente ci sono altre cose a cui pensare anche degli interventi di una stagione generale delle problematiche sistemiche ed ecco che allora i denti vengono messi un po' da parte e quindi si fa assieme tornando un po' a quelle che erano le basi cioè cosa bisogna fare bene si parla sempre però è molto importante perché sono le basi per avere una bocca sana igiene orale domiciliare e dico anche professionale perché l'ultimo punto è visite regolari dal dentista sono anche le indicazioni dell'OMS le ultime cioè le visite regolari dal dentista che non solo intercetta ma anche diciamo che dà consigli dice cosa fare in certi momenti poi una sana alimentazione e poi l'uso di fluoro da quando è che si inizia a lavare i denti da subito da quando inizia a rompere il primo dente in bocca cioè lo streptococco mutans è un batterio che si attacca non alle mucose ma colonizza la bocca quando c'è un tessuto duro quindi quando c'è o una protesi possiamo dire oppure un dente e quindi si parte da subito ovvio problematiche di spazio o altri sistemi può essere anche sufficiente una garza imbevuta d'acqua e lavare il dentino appena rotto così come anche le mucose detergere un po' e lo si fa cioè bisogna farlo sin da subito e quindi utilizzare dei corretti delle corrette metodiche poi le vedremo in seguito quali sono queste metodiche ovviamente sciacquare qui l'ho scritto ma ovviamente che si fa con una garza e si passa quindi un tessuto e poi dopo quello che ho detto prima insomma ecco qua passare una semplice garza già è molto importante quando ci sono delle problematiche motorie ovviamente e quindi manca la destrezza oppure ci possono essere delle un reflusso gastroesofageo quindi condizioni che diciamo che rendano molto più necessario quindi una qualità in tal senso si mettono in pratica tutte queste cose adesso parlerò anche di spazzolini lo farò dopo questa diapositiva in realtà doveva essere messa prima ma va bene lo stesso perdonatemi e quindi si mettono in pratica poi diversi tipi di approccio diversi tipi di strumenti anche modalità di pulizia dei denti in base all'età in base a come ci troviamo alla posizione del paziente e in base a quali sono quindi le sue esigenze ciò che consuma innanzitutto sottolineo fluoro e clorexidina non ci dimentichiamo anche di quello esistono dei colluttori a base di clorexidina che è fondamentale quindi per diciamo tenere a bada i batteri quindi all'interno della bocca e quindi si possono immergere le garzine in clorexidina in commercio esistono anche delle garzine già imbevute che vengono impacchettate singolarmente possono essere utilizzate per la detersione o semplicemente una garzina a casa imbevuta con la clorexidina anziché solamente l'acqua fluoro ma ne parleremo meglio dopo e la clorexidina non c'è paura di usarla per lungo tempo una clorexidina con una concentrazione dello 0,12% può essere usata cronicamente tutti i giorni per detergere l'unica contraindicazione che potrebbe essere percentuali alte sono alterazioni del gusto si colorano i denti di giallo ma a percentuali alte a una percentuale bassa esistono anche per esempio dei colluttori che possono essere usati che hanno un po' di fluoro un po' di clorexidina 0,05 0,05 di concentrazione va benissimo e si usa cronicamente e poi parlare anche di che tipo di spazzolino usare ovvio noi consigliamo sempre spazzolino elettrico 7000 giri al minuto impugnabile bene quindi dal genitore si applica sulla superficie si spinge si lascia agire per un po' l'unica cosa che dico è che alcuni casi tra i pazienti da noi seguiti in clinica a volte scatenano delle crisi epilettiche quindi in alcuni casi pochissimi quindi uno non l'ha provato lo prova ovviamente se succede qualcosa del genere si passa si torna allo spazzolino manuale però spazzolino elettrico consigliato sempre ovviamente l'unica cosa può essere quella oppure anche che il bambino non voglia avere quel tipo di stimolo lì nessun problema anche lo spazzolino manuale usato in un certo modo quindi con la giusta con la giusta forza con i giusti movimenti quindi funziona queste sono le posizioni che generalmente noi consigliamo perché rendono molto più semplice la gestione il paziente è messo nella sua posizione quindi in asse dietro l'operatore si tiene bloccata la mandibola con un dito tra le arcate se c'è il rischio di chiusura un involucro di gomma che potrebbe essere anche diciamo il tubo per annaffiare le piante tagliato messo su un dito in mezzo si tiene bloccata e si lavano i denti da dietro per esempio sia seduti che in piedi questa è la soluzione più diciamo ergonomica almeno quella che abbiamo avuto più riscontro nei consigli che abbiamo dato quindi ai pazienti quindi proviamoci a farlo di alimentazione parlo pochissimo abbiamo la nostra dieta mediterranea ovviamente evitare tutti i cibi ad alto contenuto glucidico quindi tutti i zuccheri ecco fare in modo che non siano quelle le componenti quindi delle assunzioni ovvio che è consigliato casomai consumarle quando si consumano gli altri pasti e poi dopo quando c'è una detersione si può lavare gli elementi dentali il fluoro arrivo qua perché secondo noi è una molto importante soprattutto quindi quando c'è un alto rischio di carie usare fluoro fluoro cosa fa remineralizza è un antibatterico contrasta l'adesione batterica e produce uno strato superficiale perché si lega alla superficie del dente anziché una idrossiapatite si forma una fluorapatite che è un po' più dura quindi una superficie esposta degli attacchi acidi il fluoro è quello che ci vuole esistono diversissime forme si può usare ovviamente a casa con dei gel con dei dentifrici appunto fluorato questo poi vedremo quante quantità e quale in base all'età per esempio dal dentista noi usiamo sempre la vernice al fluoro la vernice è una sostanza che si si applica sulla superficie si spennella sul dente dura per molto tempo a volte sono ricaricabili se uno ogni giorno usa fluoro in bocca e proprio in pazienti in cui casomai non è consumano bevande arricchite potrebbe essere una soluzione non perde l'abitudine perché quello è l'unico modo per farle bere per esempio però c'è la possibilità di rendere più resistenti le strutture e quindi esistono delle vernici di diverso tipo qua insomma ce ne sono tantissime esistono i gel quindi uno può spazzolare anche un po' con gel poco gel se ci sono dei casi di demineralizzazioni importanti oppure anche di tessuti dentali meno forti quindi macchie bianche generalmente sui denti che sono più bianche più opache sono segni di ipoplasia dello smalto poi la classificazione è molto estesa è variegata però sono diciamo aree di debolezza bene utilizziamo il fluoro perché ci fa ci fa è un nostro alleato se quindi non ci sono controindicazioni generalmente sono patologie renali però insomma quello si può usare il fluoro queste sono le le dosi un dentifricio con mille parti per milione di fluoro da 0 a 3 anni la quantità di un chicco di riso da 3 a 6 la quantità di un pisellino è ovvio che il bambino lo ingerisce quindi fa anche una fluoro profilassi sistemica cioè lo ingerisce e quindi va ad agire anche nei centri di ossificazione quindi che ci sono quando supera i 6 anni e abbiamo delle concentrazioni più alte perché sono più alte i dentifrici per i bambini che hanno più di 6 anni utilizziamo la stessa quantità di un pisellino però la domanda potrebbe essere però già beve l'acqua florata mi trovo in una zona vulcanica dove l'acqua che viene fuori è già florata benissimo esistono oltre all'acqua esiste anche il latte florato esistono varie varie soluzioni per poter dare del fluoro aggiuntivo quali sono le quantità che sono state proprio approvate da tutte le grandi associazioni se si consuma acqua florata e se quella in alto sono le concentrazioni di fluoro presente nell'acqua meno di 0,3 da 3 a 6 più superiore a 6 ecco che allora per esempio da 0 a 6 mesi non si usa il dentifricio e là ci sono le varie situazioni in cui si fa quindi significa non tanto fluoro ovviamente quello che basta e quello che basta è quello abbiamo l'acqua florata il latte florato quello che c'è non usiamo in base alle percentuali che sono presenti se quelle percentuali non ci sono allora si utilizza un dentifricio florato con quelle quantità lì due volte al giorno e va già bene deve essere usato costantemente perché se uno lo usa meno di metà anno ecco non fa non ha un effetto usato quindi in associazione con delle sostanze che si ricaricano di fluoro è fondamentale perché rilascia continuamente fluoro e se bisogna dare delle goccine perché caso mai non va bene il dentifricio perché non piace non abbiamo l'acqua florata eccetera eccetera ci sono dei sostituti cioè uno può prendere le goccine e metterle in bocca consigliamo l'uso di gocce direttamente appunto in bocca e da fare senza liquidi o altro così si sciolgono e hanno un effetto sui denti e nello stesso tempo e quindi appunto vengono vengono ingerite l'unica cosa bisogna darle lontano dai pasti soprattutto lontano da latte e latticini perché il latte chela il fluoro e non cioè ci si si unisce e non e lo disattiva fondamentalmente quindi è come non darlo però si può e si dà quindi lontano dai pasti o lontano dallo spazzolamento ovviamente parlo l'ultimo qualche minuto non so se mi sono avevo tralasciato la parte riguardo la chiusura e l'occlusione quindi dei pazienti affetti da palli Stakelian perché volevo diciamo che era un argomento che volevo trattare un po' a parte questo ritorno all'articolo che abbiamo pubblicato queste sono state un po' le cose che abbiamo riscontrato un'occlusione una malocclusione di terza classe di Engel si dice in termini è una mandibola più grande del macellare superiore molto probabilmente perché avremo bisogno ovviamente di un'analisi radiografica per poter dire se è scheletrica o no ma insomma non ci sono grossi dubbi quindi è su base scheletrica ed è una mandibola molto più grande un po' più grande con un macellare superiore più piccolo abbiamo un'altezza facciale un po' aumentata perché appunto la mandibola tende ad essere aperta verso il basso abbiamo un palato ogivale molto alto questo è strettamente legato al fatto che abbiamo un macellare superiore piccolo e quindi c'è una volta palatina molto alta e quindi delle cavità nasali ristrette ovviamente perché siamo in quel distretto anatomico in cui si ha molta prossimità e poi dopo abbiamo dei crossbite che significa che i denti chiudono un po' al contrario sia di lato in cui c'è un crossbite generalmente bilaterale quindi i denti di sopra sono più stretti se visti da di fronte quindi chiudono all'interno è un coperchio che è più piccolo della scatola fondamentalmente ed è più piccolo non solo di lato ma anche di profilo quindi casca un po' i denti di sopra cascano un po' all'interno dei denti di sotto e quindi questo si chiama crossbite anteriore e bilaterale quindi diciamo posteriore i fattori sono intrinseci e strinseci sono legati diciamo alla condizione genetica e anche perché geneticamente è determinata appunto l'ipotonia muscolare quindi muscoli periorali ipotonici non c'è un sigillo labiale la lingua protrude c'è una macroglossia e quindi tutto fa sì che la crescita si sviluppi in questo senso non ci sia una prossimità della lingua col palato e quindi il palato non riceve la spinta di questo apparecchio naturale che abbiamo in bocca a sviluppare un mascellare superiore piatto e grande e alla fine abbiamo un palato givale un mascellare superiore piccolo la respirazione orale ovviamente che è una di quelle abitudini nocive si dice no palato piccolo naso piccolo respiro con la bocca perché mi è più semplice stare a bocca aperta ecco allora l'abitudine viziata che va avanti il mascellare non cresce perché non sto a bocca chiusa insomma è tutta una serie di cose concatenate e questi poi dopo ci sono vari altri motivi insomma per cui si sviluppa questo tipo di malocclusione e questi sono i dati dallo studio che noi abbiamo fatto abbiamo per esempio c'è la respirazione orale quasi 60% di quella proprio totalmente orale che abbiamo potuto verificare ovviamente secondo me è molto sottostimato questo valore un arco palatino alto quindi un palato givale nell'88% dei casi una postura aperta alla bocca nel 100% dei casi un cross bite nel 63% dei casi e poi anche il morso aperto anteriore 63 un prognatismo mandibolare quindi la mandibola più grande che va verso il basso in avanti nel 75% dei casi questa è la situazione tipo cioè morso aperto anteriore con lingua che poi dopo protrude anche per la deglutizione ovviamente non potendo avendo un vuoto davanti la lingua deve tappare il buco per poter per poter fare la sua funzione ed ecco che allora scappa tutto come dicevano i miei colleghi prima diciamo non c'è un sigillo labiale e quindi tutta la funzione deve riarrangiarsi attorno a un'anatomia che è stata creata anche per una funzione alterata e quindi è una condizione di questo tipo questo è quello che facciamo generalmente con i pazienti questo è un paziente affetto da sindrome di Down ecco in questi casi in cui sembra sindrome di Down ha una mandibola più importante un mascellare superiore più piccolo e si fa dell'ortopedia ci allarghiamo il mascellare superiore quindi liberiamo un po' il naso e poi dopo si fa una trazione postero anteriore quindi si attacca il mascellare superiore a una struttura esterna per andare avanti ovvio che questa è una sfida perché è una sfida? c'è una cosa molto difficile da fare perché? e non dobbiamo ovvio nasconderci di fronte a questo nel senso che abbiamo l'assenza di primi e secondi molari generalmente quindi ci attacchiamo a cosa molte volte quindi in cui abbiamo bisogno di un ancoraggio importante abbiamo appunto delle problematiche motorie e quindi anche quindi dei ritardi quindi dobbiamo fare senza avere quindi certe volte una collaborazione e poi dopo ci sono le abitudini nocive che sono presenti l'ipotonia ci sarà quindi siccome tutti evidenze scientifiche ma anche tutti gli articoli dicono appunto che una volta ristabilita l'anatomia va regolarizzata la funzione per poter permettere all'anatomia di continuare ad essere quell'anatomia che noi abbiamo voluto ecco che non ci siano delle recidive il mascellare non torna indietro però ovviamente l'apertura del morso quindi questo spazio e tutta una serie di cose possono essere riproposte perché c'è una funzione che non garantisce una stabilità nel tempo questo però è un dubbio ovvio che non osa volare cioè non vola chi non osa provarci almeno ovviamente e noi in questo siamo molte volte abbiamo fatto quando si pensava di no proprio per provarci c'è uno studio che noi abbiamo fatto e concludo solo con quello per lasciare un po' di qualcosa in cui credo veramente e che è ovvio che è molto difficile ci sono delle situazioni difficili però tipo noi abbiamo fatto uno studio retrospettivo cioè guardando tutti i casi fatti noi abbiamo fino all'80% dei nostri pazienti trattati fino ad oggi erano pazienti con sindrome genetiche cromosomiche e patologie sistemiche e abbiamo trattato anche dei pazienti con anamnesi medica negativa quindi abbiamo sia un gruppo di controllo possiamo dire abbiamo fatto questo studio qua dove si vedevano un po' i tempi alla poltrona di una terapia ortodontica di risultati eccetera non per annoiarvi troppo ma poi alla fine della fiera abbiamo visto che il tempo in generale era uguale nel trattamento quindi un paziente che veniva da noi senza problematiche mediche veniva trattato in due anni e anche un paziente con particolari necessità veniva trattato in due anni l'unica cosa c'era che i tempi alla poltrona erano più lunghi cioè dove ci dovevo stare un quarto d'ora ci stavo mezz'ora 40 minuti però la terapia è durata nel nostro tempo il risultato alla fine era migliore nei pazienti senza particolare necessità quindi i pazienti che venivano lì per un trattamento normale di routine migliore in termini qualitativo studiando degli indici però la differenza di qualità era uguale cioè abbiamo avuto un miglioramento di 5 di 6 di 7 di 8 nel paziente senza patologie abbiamo avuto un miglioramento di 5 di 6 di 7 di 8 anche con ovvio che alla fine partendo da una situazione un po' diversa arrivavamo a qualcosa di meno preciso però c'era questo risultato e quindi l'abbiamo pubblicato su una buona rivista e questo ci serve anche a noi certe volte per ricordarci che si fa e io ho concluso grazie adesso ho il piacere di invitare la dottoressa Ilaria Mancini che lavora nella ginecologia di fisiopatologia di protezione umana del polichinico Sant'Orsola Malpighi a cui abbiamo dato affidato un tema un po' impegnativo nel senso che volevamo capire un pochino com'era la gestione dello sviluppo ormonale nella paziente pallister pallisterchilia però ovviamente le competenze che l'ambulatore dove lavora la dottoressa è quello proprio di vedere pazienti anche con disabilità però nello specifico per quanto riguarda pazienti pallisterchilia niente non si è trovato niente per cui adesso cedo la parola ovviamente e sentiamo un pochino più che altro sarà una interattiva nel senso che ci sono domande comunque spiega meglio giustamente la dottoressa buongiorno a tutti prima cosa ringrazio per l'invito il professor Cocchi Samantha e tutta la vostra associazione come anticipava un po' il professore siamo di fronte a un quadro da un punto di vista ginecologico in cui di dati perlomeno noi non ne abbiamo e questo è un po' il punto di partenza purtroppo a cui siamo il punto a cui siamo dal quale quindi non possiamo altro che migliorare sostanzialmente che cosa sappiamo quindi sull'apparato genitale nella sindrome di Pallister-Killian e in particolare nelle femmine la letteratura diciamo così ci aiuta un po' poco vi presento alcune review tre review sostanzialmente nelle quali viene preso in considerazione l'apparato genito urinario come possiamo vedere in questo caso in questa review del 2014 quando nel paragrafo diciamo così sistema genito urinario si parla di condizioni che interessano il sesso maschile quindi casi di pospadia di drocele o di genitali piccoli in un'altra review che è sempre recente anche questa del 2015 se ci concentriamo su quello che è anche in questo caso l'apparato genito urinario non vediamo altro che casi presentati condizioni cliniche presentate nel sesso maschile anche in questo caso ipospadia mancata discesa dei testicoli o dislocazione comunque anomalie legate proprio al sesso maschile anche in questo caso non abbiamo dati sul sesso femminile sull'apparato genitale femminile nell'ultimo nel 2012 come potete vedere in basso dove c'è la freccia anche in questo caso si parla di criptorchidismo ipospadia genitali di dimensioni ridotte e idrocele quindi la mia relazione si basa sostanzialmente su un'inversione diciamo così dei rapporti fino ad ora abbiamo parlato di quello che sappiamo di quello che la letteratura ci dice in questo caso non possiamo altro che partire dall'esperienza per cercare di arrivare a un punto un punto perlomeno sulla quale poter eventualmente indagare o approfondire l'argomento quindi pongo a voi alcune semplici domande chi di voi chiaramente ha bambine ragazzine con la sindrome di palli di sterchilian chiaramente di sesso femminile essendo io una ginecologa per quanto riguarda lo sviluppo puberale la prima domanda che vi pongo è lo sviluppo puberale avviene avviene in tempi normali avviene regolarmente quando parliamo di sviluppo puberale per una donna e questo lo sanno sicuramente meglio i pediatri parliamo dello sviluppo del seno dello sviluppo della peluria a livello pubico e anche nelle altre sedi chiaramente lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari nel caso in cui lo sviluppo puberale avvenga l'altra domanda è avvenuto il menarca il menarca è sostanzialmente la prima mestruazione compare la mestruazione in queste ragazzine seconda domanda che vi pongo terza domanda nel caso in cui la mestruazione ci sia che caratteristiche ha questa mestruazione qui si apre chiaramente un dibattito che chiedo di gestire insomma con voi qualcuno di voi ha ragazzine nelle quali è avvenuto uno sviluppo puberale ragazzine di 13 14 anni 15 non le vediamo ok 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 allora mia figlia ha 21 anni lo sviluppo puberale l'ha avuto tardivo il menarca sui 16 17 anni e i cicli mestruali sono piuttosto disordinati abbondanti e disordinati allora io non avendo proprio dati l'unica cosa che mi sono sentita insomma un pochino di approfondire un po' di più è proprio la gestione per esempio di un ciclo mestruale in una ragazzina con disabilità nel senso che nel nostro ambulatorio che è un ambulatorio di endocrinologia ginecologica afferiscono tantissime tipologie di ragazzine da adolescenti senza alcuna condizione patologica a ragazzine con sindromi di tutt'altro tipo che non siano appunto sindromi di palister chilian perché appunto casi non ne abbiamo però ci siamo trovati di fronte alla necessità talvolta richiesta proprio dai familiari o altro di andare ad aiutare un po' nella gestione del ciclo mestruale per esempio nel senso che quando ci troviamo di fronte a un paziente comunque con una disabilità può essere può essere un fattore ulteriore di difficoltà gestionale il controllo del ciclo la gestione anche proprio logistica semplice di un ciclo mestruale come già lo è di base per una donna senza alcun tipo di disabilità o cose di questo tipo quindi io sono mi aggancio allora a questa cosa visto che può avere un senso diciamo con questo piccolo schema allora la prima domanda appunto che mi ponevo era se c'era o meno lo sviluppo puberale nel caso in cui questo non avvenga chiaramente l'indirizzo va spostato su quella che è maggiormente l'endocrinologia pediatrica e lo studio di tutta quella che può essere l'attivazione centrale che induca poi lo sviluppo puberale nel caso invece questo avvenga la domanda successiva è se il menarca c'è cioè se la mestruazione avviene questo perché perché le condizioni di amenorrea primaria quindi la mancanza primaria del ciclo mestruale può avere tante cause se il menarca non c'è infatti è necessario andare ad indagare tutta quella che è l'ambito prevalentemente ginecologico e a grandi linee due sono le indagini principali che vengono eseguite per esempio anche nei nostri ambulatori quando si presenta una bambina con amenorrea primaria che sono da un lato l'esecuzione degli esami ormonali per comprendere quale sia l'attivazione ovarica e di tutto l'asse ipotalamo ipofisi surrene quindi l'asse centrale che va a attivare l'ovai e chiaramente l'ecografia pelvica perché abbiamo sindromi per esempio nelle quali l'ovaio è un ovaio atresico quindi un ovaio che non funziona come se fosse già in menopausa da subito nel caso in cui invece il menarca avvenga appunto la domanda successiva può essere come possiamo aiutare nella gestione del ciclo in generale io vi porto i dati di quella che è la realtà cioè come affrontano quali possono essere le problematiche che affrontano gli adolescenti in generale gli adolescenti presentano di base nei primi anni dopo il menarca una condizione di immaturità del sistema centrale e periferico che genera sostanzialmente dei cicli mestruali irregolari quello che sappiamo è che circa il 75% dei cicli mestruali nel primo periodo postmenarcale questo in particolare nei primi 1-2 anni si aggira tra i 21 e i 45 giorni dopodichè normalmente nel 95% dei casi entro i 5 anni dal menarca si va a ricreare a instaurare quella che è la normale ciclicità mestruale dell'età adulta ognuno ha la propria ciclicità mestruale che non è uguale per tutti normalmente vengono chiaramente considerati 28-30 giorni come la cadenza diciamo così mensile del ciclo ma è tutto estremamente suscettibile a un tratto individuale quello che sappiamo è che in generale i cicli mestruali se sono più corti di 19 giorni o più lunghi di 90 giorni questo si intende il tempo che trascorre tra la mestruazione e la successiva chiaramente non sono normali cioè vanno comunque valutati in modo un pochino più approfondito a qualunque stadio dello sviluppo in cui si trovi la ragazza o donna che sia in questa tabella vengono riassunte tutte quelle che possono essere le possibili cause di sanguinamenti uterini anomali e quando si parla di sanguinamenti uterini anomali nelle adolescenti si parla sia di anomalie di durata quindi parlavamo appunto di 19-90 giorni di differenza ma anche quantitativa chiaramente per quantità chiaramente la valutazione della quantità di un ciclo mestruale è molto difficile però normalmente una donna sa dire se è un ciclo particolarmente abbondante o un ciclo scarso per esempio e da qui ne derivano tutta una serie di cause possibili da cause endocrinologiche a cause legate ad altri disordini magari congeniti quali possono essere tutti i disordini della coagulazione chiaramente gravidanze infezioni l'utilizzo anche di alcuni farmaci e poi chiaramente la possibilità di corpi estrani per le patologie del connettivo o altre in questa slide vengono ripetute ulteriormente quali sono i possibili sanguinamenti uterini anomali e le caratteristiche che questi hanno ma direi di non addentrarci troppo nello specifico la cosa invece sulla quale mi volevo un pochino più focalizzare è appunto il concetto di disabilità e possibilità di controllo del ciclo mestruale parlando di questo argomento bisogna andare a considerare tre grandi aspetti da un lato la compliance cioè la possibilità di dare un trattamento che la paziente o il caregiver possa gestire è il primo elemento il secondo elemento da considerare è che spesso nelle condizioni di disabilità c'è un quadro di immobilità impossibilità di movimento e conseguente aumento del rischio di trombosi venosa profonda quindi di eventi trombotici il terzo elemento da considerare è la possibilità di interazione farmacologica abbiamo visto per esempio le pazienti con sindrome di pallisterchile spesso è presente l'epilessia i farmaci antipilettici sono tra i farmaci che vanno ad interferire per esempio con le terapie ormonali i trattamenti che abbiamo a disposizione per andare ad ottimizzare con chiaramente i minori rischi il ciclo mestruale abbiamo a disposizione sia trattamenti orali i cosiddetti contraccettivi orali combinati cioè la pillola la classica pillola estroprogestinica la possibilità di trattamenti per via trasdermica ormonali per via trasdermica e la possibilità di dispositivi sottocutanei affrontiamo un pochino più direttamente i pro e i contro di qualunque di questi tre tipi di trattamenti che hanno comunque il fine ultimo in questi casi probabilmente più che un fine contraccettivo quanto il controllo proprio del ciclo mestruale la possibilità di andare a facilitarne la gestione la pillola estroprogestinica presenta sicuramente degli elementi che possono soprattutto in questo caso andarne un pochino a limitare l'utilizzo anche se questo è estremamente variabile abbiamo visto come la variabilità fenotipica e di clinica sia estremamente estremamente ampia e quindi la necessità di una somministrazione quotidiana che può chiaramente rendere un pochino più difficile la gestione la pillola di per sé rispetto agli altri due tipi di trattamenti quali appunto la via transdermico il dispositivo sottocutaneo aumenta maggiormente il rischio tromboembolico quindi in una paziente immobilizzata è chiaramente un fattore di rischio aggiuntivo l'importanza delle interazioni farmacologiche appunto per esempio i farmaci antiepilettici e inoltre la difficoltà essendo un farmaco che va comunque ingerito nei casi di disfagia o nei casi in cui si presenti vomito di arrea che vanno comunque ad alterarne l'assorbimento quindi potendo in qualche modo alterarne il metabolismo e quindi la capacità d'azione dall'altra parte la pillola è uno strumento che ha un ottimo capace a seconda chiaramente del tipo di pillola del tipo di progestinico e altro ha la possibilità di garantire un ottimo controllo del ciclo mestruale noi abbiamo pazienti nelle quali la pillola viene data in somministrazione continua che cosa vuol dire ci sono tante donne la pillola normalmente le pillole più classiche vengono assunte per 21 giorni con 7 giorni di sospensione nella quale normalmente compare la mestruazione le pillole però possono essere date anche con una somministrazione continua che significa prendere la pillola per 21 giorni non seguire i 7 giorni di sospensione ma iniziare direttamente la scatola successiva questo assolutamente senza andare ad aumentare nessun tipo di rischio al contrario in questo modo che cosa succede che somministrando la pillola in modo continuo non si ha la caduta l'asfaldamento endometriale quindi non si ha il ciclo mestruale quello che succede è che si va incontro a una sorta di amenorrea bisogna sempre considerare questa è una cosa che normalmente spaventa molto le donne proprio in linea generale quando si propone a qualcuno che magari non so ha sintomi durante il ciclo mal di testa di fare una somministrazione in continuo sempre subentra oh mio dio ma non mi vengono più le mestruazioni se fosse un dramma però perché viene la mestruazione rappresenta un po' una sorta di evento fisiologico che fa sentire la donna normale tra virgolette in realtà la mestruazione in corso di pillola e questa è una cosa molto importante è una mestruazione finta cioè non è una mestruazione che riflette una funzione dell'ovaio cioè l'ovaio sotto pillola non funziona e quindi quella mestruazione è semplicemente legata alla caduta ormonale dovuta alla non assunzione delle pillole in quei 4 o 7 giorni che siano di sospensione in questi casi invece per esempio dal nostro punto di vista chiaramente la possibilità di evitare il ciclo mestruale può essere favorente nella gestione di queste condizioni senza assolutamente causare nessun tipo di problema quello che si può fare magari ogni 6 mesi un anno dare i 7 giorni di pausa con la caduta dell'endometrio e il successivo ripresino normale della funzionalità l'altra possibilità è quella del cerotto il cerotto rappresenta probabilmente un metodo più accessibile più gestibile nella condizione della PKS ha diciamo così dei limiti legati al fatto che può staccarsi può dare irritazioni cutanee però in questo caso non stiamo parlando di una necessità contraccettiva quindi qualora il cerotto si stacchi in queste condizioni che si può avere la perdita mestruale ma non che succeda chissà quale problema i fattori diciamo così positivi sono che ha una durata settimanale quindi il cerotto va sostituito una volta a settimana anche in questo caso invece che fare i 3 cerotti al mese si può continuare a riprendere direttamente col cerotto successivo quindi proseguire in interrottamento di settimana in settimana sostituendo il cerotto non dà nessun tipo di interferenza con problematiche gastrointestinali non abbiamo il problema della disfagia non abbiamo il problema in caso di vomito di diarrea inoltre il cerotto espone per un problema diciamo così di farmacocinetica e farmacodinamica a un minor rischio di trombosi venosa profonda quindi in quei casi in cui ci sia un'immobilità per esempio può essere un elemento favorente se vogliamo controllare il ciclo mestruale in ultimo uscito ormai da qualche anno non molto conosciuto ancora è l'impianto sottocutaneo l'impianto sottocutaneo è una sorta di fiammifero diciamo così che viene posizionato in ambulatorio a livello del braccio della faccia volare del braccio ed è a rilascio di solo progesterone quindi non contiene l'estrogeno che è il fattore che maggiormente favorisce aumenta il rischio tromboembolico ma rilascia appunto solo progesterone dando come limite però un controllo del ciclo mestruale meno ottimale rispetto alla pillola o al cerotto può dare infatti perdite irregolari normalmente il ciclo va stabilizzandosi ripristinando un normale ciclo mensile a distanza di 3-4 mesi dall'introduzione del posizionamento del dispositivo però ci sono anche casi riportati neanche così infrequenti di perdite irregolari e di spot incostante i fattori gli elementi positivi sono sicuramente che ha una durata triennale non bisogna ricordarselo tutti i giorni neanche tutte le settimane non interferisce positivamente anche questo con problemi intestinali anche questo causa un ridotto rischio di trombosi venosa profonda proprio perché è costituito da solo progesterone diciamo quindi fino ad ora vi ho esposto un po' diciamo le tre possibilità quello di cui vi parlavo prima è la possibile interazione dei contraccettivi con gli antiepilettici queste sono le linee guida del WHO del 2015 sulla appunto contraccezione e interazioni farmacologiche come dicevo prima in questo caso l'interazione farmacologica causa una riduzione dell'effetto dell'estroprogestinico in particolare qui vengono riportati i contraccettivi orali combinati C o C come in categoria 3 quindi controindicati sostanzialmente nel caso in cui ci sia il contemporaneo utilizzo di antiepilettici la stessa cosa vale per il cerotto però quello che ci tenevo a sottolineare è che in questo caso si parla di funzione contraccettiva quindi il problema può essere che riducendo nell'assorbimento e andando ad interagire col metabolismo del contraccettivo orale gli antiepilettici fanno sì che il contraccettivo agisca meno in modo meno chiaro sul controllo del ciclo quindi possono esserci perdite irregolari o altro in ultimo invece per quanto riguarda il dispositivo sottocutaneo con solo progesterone non ci sono invece interazioni quindi sostanzialmente l'antiepilettico non va assolutamente ad interferire con la funzione del dispositivo sottocutaneo questo era quello che io avevo a disposizione da diciamo così da presentarvi e vi ringrazio per l'attenzione e qui sopra c'è appunto il nostro ambulatorio in cui io lavoro con la professoressa Meriggiola che si occupa appunto della gestione un po' soprattutto della gestione ginecologica pediatrica e dell'endocrinologia ginecologica grazie adesso invito la signora Giulia Fesce no giusto ho sbagliato ah no ha ragione la dottoressa Maria Chiara di Fabio si sbagliavo scusate ho sbagliato tutto giusto questo è giusto sì ok allora la dottoressa che ci illustra i nuovi approcci fisioterapici Terasuit e Medec bene buon pomeriggio a tutti innanzitutto voglio ringraziare la segreteria scientifica per questo invito e ecco oggi vorrei presentarvi due nuovi approcci fisioterapici che sono ancora poco conosciuti sul panorama italiano questi metodi sono il metodo Terasuit e il metodo Quevas Medec nella mia pratica clinica ho avuto la possibilità di venire a contatto con questi metodi e quindi di poterli praticare appunto da un punto di vista clinico e poterli poi approfondire da un punto di vista scientifico Bene le indicazioni generali di questi due metodi sono quindi sono applicabili in patologie che presentano ritardo nello sviluppo psicomotorio che in realtà può essere causato da differenti tipi di patologie congenite o acquisite alcuni esempi sono la paralisi cerebrale infantile molto studiata le malattie neuromuscolari la spina bifida lictus traumicranici che appunto sono patologie di tipo acquisite e lesioni midollari sindrome di Down e non da ultima la sindrome di Pallister-Killian Le caratteristiche e le manifestazioni cliniche della Pallister-Killian sindrome sulle quali il TerraSuite e il Medec possono trovare un'utilità sono l'ipotonia neonatale e l'ipertonia quella che si instaura successivamente con abbiamo visto stamattina con contratture muscolari e altre problematiche secondarie può aiutare a dare un input a livello di allineamento posturale e nella percezione della linea mediana inoltre può aiutare a prevenire o a contenere la scoliosi che non è rara abbiamo visto appunto da uno stimolo proprio cettivo e migliora stimola la funzionalità motoria bene iniziamo a parlare ora del metodo TerraSuite iniziamo con una piccola curiosità questo metodo nasce in Russia dove un approccio simile veniva utilizzato sugli astronauti al ritorno dalle missioni nello spazio al fine di contrastare combattere gli effetti negativi provocati dalla mancanza di forza di gravità e questi effetti erano l'atrofia muscolare e la debolezza ovviamente l'osteoporosi e i deficit proprio cettivi negli anni questo metodo è sempre stato più studiato dal punto di vista riabilitativo soprattutto grazie all'importante contributo di Isabella e Richard Koscelli che sono due fisioterapisti polacchi nonché genitori di una bambina ormai ragazza affetta da paralisi cerebrale infantile che hanno coniato e sviluppato il TerraSuite proprio come metodo riabilitativo nel 2002 TerraSuite è stato registrato presso la Food and Drug Administration bene entriamo ora nello specifico del metodo è un programma di allenamento intensivo personalizzato per bambini e adulti affetti appunto da ritardo nello sviluppo psicomotorio si avvale e si caratterizza per l'utilizzo di alcuni strumenti due in particolare la TerraSuite dico la perché è questa sorta di tutina alla quale vengono applicati dei tiranti elastici che hanno delle funzioni ben specifiche che vedremo in seguito e abbiamo poi la Universal Exercise Unit che è questa sorta di gabbia all'interno della quale possiamo utilizzare due sistemi che sono il Pallet System che è un sistema di pulegge utile per svolgere un rinforzo muscolare e lo Spider che è un sistema di sospensione elastico andremo ad analizzare nel dettaglio questi strumenti bene la cosa serve a normalizzare il tono muscolare a incrementare l'attività motoria ad aumentare la forza e la resistenza a migliorare le capacità funzionali e a stimolare la propriocezione serve quindi per fare fisioterapia sostanzialmente iniziamo a parlare prima di tutto della terra perché parliamo della tutina di cui avete visto l'immagine precedentemente viene definita come un'ortesi dinamica propriocettiva capiamo bene cosa vuol dire un'ortesi è un ausilio che viene applicato sopra al corpo del paziente quindi non sostituisce come una protesi un'articolazione ma viene applicato sopra e nevicaria e ausilia una funzione dinamica perché è costituita da un materiale morbido e oltretutto non è statica non è un bustino rigido e favorisce il movimento propriocettiva mi sentirete parlare spesso di questo termine in questa presentazione vi do una piccola definizione di propriocezione molto semplice è la capacità che abbiamo di percepire il posizionamento delle articolazioni nello spazio e lo stato di contrazione dei muscoli senza utilizzare la vista banalmente senza guardare il mio braccio posso capire se è lungo il mio fianco o appoggiato sul tavolo le funzioni e gli obiettivi della Terra Suite sono dare appunto uno stimolo propriocettivo contenere i riflessi patologici facilitare nell'esecuzione del gesto e del movimento allineare i segmenti corporei banalmente se abbiamo una scoliosi con concavità ad esempio a destra possiamo applicare i tiranti elastici a sinistra con maggior tensione in modo da stimolare in un certo senso un riallineamento possiamo dare un supporto alle strutture deboli come possono essere il capo o il tronco e infine esercita sul corpo pressioni gravitazionali che comportano una maggiore attivazione del core quindi della parte addominale che sappiamo essere fondamentale per compiere qualunque gesto e un'attivazione della muscolatura posturale ma andiamo a vedere un attimino con un esempio quanto ho detto nella prima figura vediamo una bambina una ragazzina con uno schema patologico applicando la tutina si può vedere come possiamo favorire un riallineamento posturale e far percepire al paziente la giusta posizione delle sue articolazioni nello spazio bene passiamo ora a vedere il pallet system viene definito come un sistema di sospensione dotato di pulegge e pesi che permette al paziente di eseguire il movimento richiesto in maniera selettiva le funzioni sono quelle di fare un rinforzo muscolare di andare ad aumentare il ROM che è l'articolarità il range of motion articolare stimolare movimenti selettivi prevenire contratture muscolari che abbiamo visto che appunto nella sindrome di Pallester-Killian sono presenti con gli anni serve inoltre a normalizzare il tono muscolare e a dare uno stimolo proprio eccettivo vorrei spiegarvelo con alcuni esempi in queste immagini vediamo una bambina seduta appunto in posizione seduta e quello che la fisioterapista cerca di fare è andare a rinforzare un movimento di adduzione in questo caso dunque il braccio delle bambine stabilizzato all'interno di uno stabilizzatore è sospeso dietro dietro la fisioterapista c'è il peso c'è inoltre un sistema di pulegge e si richiede alla bambina di avvicinare il braccio al corpo teniamo conto che la fisioterapista ha le mani libere per aiutare la bambina può essere utilizzato anche in posizioni funzionali come ad esempio posizione quadrupedica per stimolare la flessione d'anca e quindi inserito poi in un contesto più generale per stimolare la funzione del gattonamento infine vediamo un ultimo esempio in cui la paziente è supina e richiediamo di eseguire una triplice estensione vedete che alcune parti del corpo sono stabilizzate da pesi o da fasce perché non vogliamo che subentrino compensi durante l'esecuzione dell'esercizio vogliamo essere selettivi in questo caso sull'arto inferiore di sinistra abbiamo poi lo spider che è un sistema di sospensione elastico che permette al paziente di eseguire il movimento richiesto con una riduzione della forza di gravità quindi l'obiettivo e la funzione di questo strumento è quello di fare un rinforzo muscolare di aumentare il ROM articolare ancora una volta di fare una stabilizzazione muscolare quindi lavorare anche su quei muscoli che sono fissatori stimolare l'equilibrio la coordinazione stimolare la percezione della linea mediana e favorire movimenti di tipo funzionale anche qui facciamo alcuni esempi abbiamo una bambina che era posizionata in quadrupedia a livello del bacino ha un supporto a livello del quale vengono applicati dei tiranti elastici che sono agganciati a questa gabbia lasciatemi passare il termine il fisioterapista può scegliere quanto tenere alti questi tiranti e quindi conseguentemente quanto peso far gravare sulle articolazioni del paziente una volta trovata la posizione corretta si possono eseguire anche degli esercizi in questo caso appunto stanno eseguendo un esercizio per stimolare la muscolatura del tronco e degli arti superiori e inferiori può essere utilizzata in stazione retta quindi anche qui possiamo applicare i tiranti elastici più in alto o più in basso in base a quanta pressione vogliamo dare agli arti inferiori e possiamo poi eseguire degli esercizi in questo caso di tipo proprio con delle tavolette vediamo che qui si vede bene la cintura pelvica sotto la quale c'è sempre un cuscinetto perché proprio per un comfort maggiore del paziente il metodo TerraSuite prevede un trattamento di tipo intensivo dunque si fa secondo il metodo TerraSuite fisioterapia per 3-4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e per 3-4 settimane sotto questa posologia c'è un razionale che viene riportato in alcuni studi fatti durante la prima settimana si fa conoscere al bambino il metodo al paziente che può essere appunto anche adulto e si inizia a fargli conoscere e prendere contatto con gli strumenti si fa poi una valutazione di tipo funzionale si definiscono gli obiettivi del trattamento e si inizia a lavorare con un rinforzo muscolare di tipo globale in seconda settimana si va invece a lavorare più nello specifico per fare un rinforzo muscolare più selettivo dei muscoli che sono importanti per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata in terza in terza e se serve quarta settimana si traduce in funzionale quindi si fa un lavoro più sul gesto tutto ciò che ho costruito dal punto di vista muscolare secondo la mia esperienza clinica ho visto che questo metodo può essere utilizzato a mio avviso anche in maniera continuativa in maniera estensiva quindi facendo fisioterapia due o tre volte alla settimana per un'ora al giorno per ottenere sia un miglioramento ma anche un mantenimento di ciò che ho guadagnato ovviamente la posologia va scelta a mio avviso considerando l'età e le condizioni cliniche del paziente e va valutata in equip medica tutto ciò per dire che Terasfit non mi piace vederlo proprio solo come un metodo ma vederlo come uno strumento nel senso che posso avere degli strumenti che permettono al fisioterapista di avere le mani libere per aiutare il paziente che comunque è stabilizzato da questi strumenti quindi possono essere per noi terapisti un aiuto allora il metodo Terasfit può essere utilizzato per le caratteristiche e le manifestazioni cliniche della patologia all'interno della sindrome di Pallister-Killian arriviamo però alla nota dolente gli studi sono stati effettuati pochi trattamenti e gli studi disponibili in letteratura non sono molti per quanto riguarda i trattamenti quindi la parte clinica è stato visto che si ha un buon miglioramento del controllo del capo e del tronco e un aumento della forza muscolare ho contattato Isabella che è l'inventrice appunto di questo metodo la quale mi ha riportato un caso di un bambino con Pallister-Killian nel quale ha utilizzato Terasfit non ha potuto applicare la tutina perché aveva un'ernia umbilicale che abbiamo visto stamattina ma ha utilizzato gli altri strumenti e ha avuto appunto un buon un buon risultato dal punto di vista di forza muscolare purtroppo i dati che vi riporto sono solo di tipo qualitativo e non quantitativo perché non è stato eseguito un case report o uno studio proprio su questo caso ecco a mio avviso il trattamento e la posologia devono essere come ogni trattamento fisioterapico sempre personalizzati sulla base del paziente e inoltre bisogna tenere in considerazione proprio le condizioni cliniche c'è la necessità anche qui di condurre ulteriori studi scientifici ci sono parecchi studi che indagano il metodo TerraSuite ce ne sono ce ne sono parecchi ci sono anche delle metanalisi anche di pubblicazione recente tuttavia viene sempre detto che gli studi hanno una bassa qualità e soprattutto la pallister Killian non viene indagata si studiano principalmente le parasi cerebrali infantili quindi sarebbe auspicabile appunto fare uno studio a riguardo e migliorare soprattutto la qualità degli studi scientifici effettuati bene cambiamo ora argomento e parliamo del Cuevas Medic Exercises allora viene definita come una terapia psicomotoria elaborata da Cuevas Medic nel 1972 è un fisioterapista cileno e si basa su esercizi applicati manualmente dal fisioterapista al paziente esclusivamente in età pediatrica poi vi farò vedere gli esercizi e vi renderete conto che non può essere proprio per come sono fatti gli esercizi applicati a una popolazione adulta e il paziente deve essere appunto affetto da ritardo nello sviluppo psicomotorio lo scopo del Cuevas Medic è quello di elicitare funzioni assenti e di provocare risposte automatiche posturali e motorie tramite l'applicazione di stimoli esterni da parte del fisioterapista e l'esposizione del paziente alla forza di gravità questi due punti sono fondamentali per capire il razionale di questa terapia e voglio spiegarveli attraverso alcuni esempi allora vediamo qui un esercizio un esercizio utile per migliorare l'attivazione dei muscoli estensori del capo e conseguentemente poi in un contesto più funzionale il controllo del capo appunto la testa del paziente posizionata a favore di gravità tende quindi alla flessione e il fisioterapista va a applicare questi stimoli manuali a livello della fronte del bambino quindi stabilizza il tronco con una mano mentre l'altra mano è posizionata sotto la fronte darà degli stimoli di tipo vibratorio portando in estensione di 45 gradi il capo del paziente non si aiuta il paziente non si danno stimoli verbali ma attraverso l'applicazione appunto di tecniche manuali pian piano il bambino capisce che deve attivare si dà uno stimolo alla muscolatura per attivare i muscoli estensori di tronco un esercizio simile al precedente ma che serve per stimolare l'attivazione dei muscoli estensori di tronco e conseguentemente il controllo del tronco è il seguente quindi abbiamo sempre il corpo del paziente esposto alla forza di gravità e uno stimolo manuale applicato da parte del fisioterapista infine un esempio di esercizio in stazione eretta vedete come non sarebbe possibile applicare questi esercizi a un adulto proprio per come sono fatti e in questo caso vediamo il bambino in piedi sulle cosce del fisioterapista e il bambino viene sostenuto e lo stimolo viene dato a livello del bacino man mano che il paziente acquisisce la capacità di rimanere in stazione eretta lo stimolo viene applicato dal prossimale al distale e si danno poi delle sollecitazioni di tipo vedete con gli arti inferiori per stimolare anche altre funzioni come in pratica come viene applicato questo trattamento si inizia con una valutazione iniziale ci sono 41 items quindi 41 voci alle quali bisogna rispondere e ci servono per fissare gli obiettivi da raggiungere dopodiché si inizia il trattamento viene svolto per 8 settimane complessive e si esegue una sessione al giorno di durata dai 30 ai 45 minuti per bambini molto piccoli sono descritti anche trattamenti di 20 minuti i genitori vengono fatti partecipare attivamente al trattamento se nell'arco delle 8 settimane non vengono raggiunti gli obiettivi prefissati si invitano i genitori a provare altre strade quindi non si insiste in questo tipo di trattamento per le caratteristiche appunto della pallister-killian syndrome il metodo MEDEC è applicabile a mio avviso è molto importante come sempre ma qui in particolare monitorare la reazione del paziente del bambino durante il trattamento perché viene imposta una nostra manualità una nostra forza dall'esterno e non sempre i bambini accettano questo quindi bisogna fare in modo invece che lo accettino in maniera positiva e vedano positivamente questo tipo di trattamento altrimenti c'è il rischio che ci sia proprio un rifiuto da parte del bambino esistono pochi dati disponibili nella letteratura scientifica ancora una volta per quanto riguarda il MEDEC esistono alcuni libri ma studi scientifici in letteratura non ce ne sono non ne ho trovati quindi anche qui sarebbe utile portare avanti degli studi per capire se il metodo MEDEC è veramente efficace per quanto riguarda la mia esperienza clinica io ho potuto utilizzarlo con una bambina una bambina e non PKS era una bambina ipotonica ad oggi senza diagnosi abbiamo avuto dei buoni risultati per quanto riguarda il controllo del capo e del tronco nel breve termine nel lungo termine purtroppo non è stato valutabile perché sono subentrate altre complicazioni principalmente di tipo respiratorio e quindi non ho dati da riportarvi purtroppo nel breve termine però un miglioramento c'era stato sarebbe a mio avviso auspicabile soprattutto tornando a parlare di PKS fare uno studio uno studio che coinvolga questa popolazione di bambini è uno studio multicentrico perché sono pochi i centri che si occupano di di MEDEC e sarebbe utile oltretutto vedere confrontare metodo TerraSuite e metodo MEDEC con la fisioterapia tradizionale per capire se effettivamente questi metodi hanno un'efficacia maggiore rispetto a ciò che viene offerto dalla fisioterapia diciamo tradizionale ecco sono disponibile eventualmente per approfondimenti per quanto riguarda la letteratura scientifica e ringrazio tutti per l'attenzione grazie 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 alla dottoressa di Fabio e ecco ora invito la signora Fesce che è una mamma una mamma che ci racconterà la sua avventura la sua storia che l'ha portata a realizzare un bellissimo progetto è una onlus che si chiama progettiamo no scusate orizzonte e autonomia progettiamo autonomia un'altra cosa orizzonte e autonomia onlus grazie buonasera a tutti ringrazio anch'io non è acceso? sì ringrazio anch'io Samantha per l'invito per me è una cosa veramente emozionante essere qui parlare in mezzo a medici fisioterapisti e anche tanti genitori come me premetto che appunto il mio sarà un intervento da genitore quindi non ho basi scientifiche per argomentare in modo tecnico la mia esperienza però ho una discreta esperienza sia come mamma di Andrea che ha dieci anni ha una paralisi cerebrale e sia perché durante il suo percorso abbiamo provato tante strade per informarci per come quello che state facendo voi adesso insomma per andare un po' al di fuori di quella che era l'offerta che ci veniva proposta dal servizio sanitario nazionale nella zona in cui viviamo peraltro e quindi nei primissimi anni della sua vita c'è stata una una ricerca un tentativo di un tentativo di sperimentare più cose possibile per vedere cosa offriva il panorama siamo poi arrivati alla conductive education che è il metodo che tenterò di spiegarvi qui però ripeto come genitore cioè gli effetti che ha avuto la metodologia che si applica come si lavora i benefici che continuiamo a vedere Andrea ha avuto appunto una diagnosi di paralisi cerebrale infantile anche abbastanza tardi ce l'ha avuta a 11 mesi probabilmente da trasfusione fetofetale perché era una gravidanza gemellare vabbè nato prematuro ma il problema non è stata la prematurità probabilmente è stato un problema in utero per cui aveva una lesione cerebrale abbastanza importante il primo diciamo siamo stati indirizzati verso il servizio pubblico che ci ha sicuramente aiutato in una fase iniziale però poi io avevo sempre questa sensazione di non sfruttare al massimo la sua forbice di possibilità cioè posto che avevo capito molto presto che non sarebbe mai arrivato a 100 però magari poteva arrivare a 40 e avevo la sensazione di stare sempre avendo cioè c'era quella forbice che avevo sempre la sensazione di non di non spingere abbastanza di non essere abbastanza informata di non fare tutto quello che si poteva per raggiungere il suo individuale massimo in uno dei primi contatti che abbiamo avuto poi con un servizio pubblico che è il Sapre del Policlinico di Milano non so se qualcuno di voi lo conosce che poi si occupa di SMA fondamentalmente in primis però diciamo che accoglie i genitori ed è un servizio per i genitori più che per i bambini infatti è servizio di abilitazione precoce e ti dà subito una svegliata cioè ti ti mette un po' di fronte alla realtà ci sono delle persone molto competenti e a me per la prima volta mi hanno detto tuo figlio prova a fargli fare il metodo PETO o Conductive Education nello stesso modo di chiamarli solo che in Italia non c'è se non in un centro a Torino io vivo in provincia di Ancona quindi Torino era abbastanza lontano ma oppure all'estero all'estero ci sono decine di centri di Conductive Education da anni e quindi ho fatto questa esperienza a Torino ottima positivissima Andrea pianto sempre tre settimane ma per me era un buon segno perché voleva dire che gli veniva chiesto qualcosa di più di quello che già sapeva fare tant'è vero che già dopo tre settimane qualche piccolo traguardo l'aveva raggiunto e l'aveva anche mantenuto poi nelle settimane successive era in un'età di sviluppo era in una fase iniziale quindi è ovvio che la curva di miglioramento all'inizio è più inclinata diciamo poi dopo non arriverà sicuramente appunto a prestazioni normali tra virgolette però subito ho avuto un impatto positivissimo e poi vi spiego anche perché dico solo che essendo così lontano vendo io poi il gemello insomma ho detto vabbè questa cosa la metto da parte aveva tre anni adesso ne ha dieci questa cosa la metto da parte però come cosa col segno positivo insomma mi piace e però ho continuato perché ero proprio all'inizio quindi siamo stati all'estero abbiamo fatto ossigenoterapia qui in Italia abbiamo fatto me le sono insegnate perché non me le ricordo tutte siamo state al Mondino a Pavia dove è stato fatto più ricoveri cliniche all'estero abbiamo fatto la Terra suite dove era ecco l'abbiamo fatta negli Stati Uniti però perché al tempo non c'era lega del filo d'oro noi viviamo in provincia di Ancona quindi insomma per discorso sensoriale grande competenza alla fine di tutto questo un po' di contraddizione tra le varie figure no tra i vari medici poi perché questo è quello che non so se mi trovate d'accordo con me però a volte sono gli stessi medici gli stessi fisioterapisti che ti danno informazioni contrastanti cioè consigli contrastanti deve stare a tappeto no non deve stare a tappeto deve stare in acqua no non ci deve stare è pronto per stare in piedi no non è pronto per stare in piedi e questo genera un disorientamento in chi non ha le competenze scientifiche poi per decidere che ecco ti spiazza perché dici più cerco di capire più voi mi distraete ovviamente perché ognuno ha la sua impostazione e c'è del vero in tutto quello che viene detto assolutamente però poi una strada bisogna sceglierla e la dobbiamo scegliere noi come genitori quindi alla fine insomma a un certo punto ho capito che dovevo fermarmi perché non potevo andare avanti all'infinito a fare anche proprio questa vita perché c'era un altro figlio di mezzo che iniziava la scuola eccetera e quindi sono ritornata con l'impressione positiva dico adesso chiamo la terapista di Conductive Education la faccio venire a casa e per un mese voglio vedere cosa fa con mio figlio ecco in un mese questo ripeto è la mia esperienza in una paralisi cerebrale infantile non in una PKS quindi vi parlo di mio figlio di quello che è stato per il mio che non significa che poi vada bene per gli altri quindi però io in quel mese ho visto tantissime cose ho visto innanzitutto un enorme lavoro sulle autonomie e il discorso delle autonomie è una cosa è un punto forte della Conductive Education perché molto spesso almeno ripeto per la nostra esperienza è un discorso che viene assolutamente trascurato e per autonomia intendo alimentazione igiene controllo sfinterico per chi ne ha le capacità cognitive indipendenza nel vestirsi spogliarsi lavarsi allora Andrea mangiava pur non avendo assolutamente problemi di deglutazione né di masticazione mangiava per un suo vizio soltanto roba frullata quindi con grosso impegno da parte mia ogni volta che andava all'asilo e frulla quello e cuoci quello alle sette della mattina il pesce quindi insomma non poter andare fuori non poter improvvisare un pranzo qualsiasi cosa la terapista l'ha svezzato in un mese e mezzo ha urlato tanto anche lì ha pianto ma non c'erano controindicazioni mediche ovviamente si lavora con un background medico cioè dopo aver visionato la documentazione non è che fanno di testa loro qualsiasi cosa così come nel motorio vengono guardati le radiografie le anche lo stato generale la densità ossea una serie di parametri però per quella cosa lì Andrea non aveva problemi di deglutazione di masticazione questo bambino questo bambino deve mangiare normalmente perché mangia le pappe e quindi lavoro stessa cosa per il controllo sfinterico loro lo chiamano training potty non ho detto che è un metodo ungherese che le terapiste sono tutte ungheresi perché si formano al Petto Institute di Budapest esclusivamente e quindi il colloquio è in inglese tutta l'impostazione del lavoro è in lingua inglese ma questo non è un problema soprattutto non è un problema per i bambini e quindi loro lo chiamano il famoso training potty cioè l'allenamento al vasino stessa cosa con Andrea ha funzionato Andrea faceva tutto addosso non parla mio figlio non comunica il bisogno e non sappiamo neanche se lo sente il bisogno cioè se lo avverte fisicamente quindi poi per comunicarlo anche con un gesto però con l'allenamento al vasino qual è stato il lavoro è stata l'associazione del luogo fisico o della parola pipì semplicemente al rilascio al rilassamento per cui dai 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 è ovvio che ci sono state due settimane in cui lui veniva portato in bagno ogni 20 minuti e quindi è stato pesante ma adesso Andrea non comunica non parla se gli scappa non te lo dice però sa dove deve fare la pipì noi gli mettiamo il pannolino per sicurezza perché poi a volte si oppone si rifiuta urla c'è altre poi manifestazioni comportamentali che interferiscono con questa cosa però il controllo sfinterico o etero controllo lo chiamano cioè quando tu gli dici fai la pipì e la fa ed è tanto è tanto perché è sempre asciutto quindi per la pelle per l'igiene per tutto poi lo capite da soli insomma perché è importante ecco quindi il discorso autonomie è importantissimo un altro discorso importantissimo è quello della preservazione fisica ovvero la conductive education tipica poi a volte non si riesce a realizzare la sessione proprio come dovrebbe essere prevede una sessione di almeno un paio d'ore in cui in un bambino e io parlo sempre del mio ipertonico quindi con una grossa ritenzione anche tendine muscolare viene ritenuto e io l'ho sempre pensata anche io questa cosa cioè quando io lo portavo alla fisioterapia tradizionale pum me lo metteva cioè magari fuori era freddo era tutto imbacuccato il tempo di spogarsi trac messo in piedi così con i piedi in equino poi lo spingevano un po' trac e alla fine si appoggiavano questi piedi dico boh vabbè invece il concetto che viene applicato qui è quello di preparare il fisico alla prestazione tra virgolette che viene poi richiesta cioè ti metto nelle condizioni migliori passivamente quindi con la mobilizzazione e lo stretching per chi ha ipertono io non so se nella palister killian ci sono condizioni di ipertono ipotono forse più entrambe ecco però per esempio per il piede in equino come a lui poi adesso avendo dieci anni le ossa crescono i muscoli purtroppo non gli vanno dietro di pari passo quindi aumenta quindi si fa ma un lavoro che è lungo sono 30-40 minuti di preparazione fisica di stretching io non ho portato nessuna foto proprio perché non volevo né pubblicizzare né fornire dei dati che poi magari scientificamente non sono in grado neanche di spiegare e sostenere però lui viene proprio tirato ci sono dei tavoli fatti apposta viene prima manipolato caviglie ginocchia vengono allargate le anchine perché lui tende ovviamente ecco è il bambino di quella foto della terra suite che ha fatto vedere prima la dottoressa cioè gambe così braccia così ma aveva funzionato con la terra suite aveva una postura corretta solo che poi dopo era una cosa che non potevamo continuare a fare dopo questa manipolazione ovviamente certo che non raggiunge l'elasticità di un bambino normodotato che non ha problemi non la raggiungerà mai però è molto più mobilizzabile e la prestazione che gli viene richiesta dallo striscio al gattonamento allo stare in piedi innanzitutto è fatta in modo più corretto lui è più libero nei movimenti e questa è una cosa che lo sperimentate dalla prima volta si vede subito cioè è come noi se ci alleniamo a fare la spaccata adesso non ci riusciamo ma se se per una settimana ci alleniamo dai dai forse tra un mese ci riusciamo quindi il muscolo fino a un certo punto ovviamente quando c'è una patologia qui c'è un segnale che parte dal cervello con un impulso troppo forte la spasticità ci sarà sempre però noi il muscolo lo possiamo allenare tra virgolette quindi questa attività di stretching è essenziale nella preparazione tra l'altro mi collega a questo per dire che questo progetto è stato portato all'interno della scuola e all'interno della scuola pubblica e all'interno della scuola pubblica anche le varie educatrici persone che gravitano intorno al bambino sono state coinvolte in questo perché altra caratteristica della conductive education è quella di non tenere il genitore fuori dalla porta come capitava a me cioè come hanno chiesto di fare a me poi entravo lo stesso però mi chiedevano di stare fuori io avevo un bambino di sei mesi e non sapevo neanche cambiargli il pannolino perché teneva le gambe così quindi non invece c'è un grandissimo coinvolgimento di tutte le persone noi nel nostro centro facciamo venire gli insegnanti le babysitter le nonne cioè chiunque si occupa del bambino perché è chiaro che nessuno diventa un fisioterapista e ne deve diventarlo però posizioni viziate facilitazioni piccole cose che aiutano nella gestione quotidiana e nella salute e quindi si crea questo rapporto che è di sinergia insomma quindi ecco il coinvolgimento delle figure latere ecco io adesso non so neanche quanto tempo parlato se è ora quasi a posto io ecco questa è l'esperienza che abbiamo avuto a quel punto è nata l'esigenza di condividere da parte mia questa esperienza con altre persone quindi abbiamo creato l'associazione dove ospitiamo adesso 7-8 bambini in sessioni individuali poi ospitiamo dei bambini per delle sessioni full immersion sono di 1-2-3 settimane a seconda e lavoriamo bene con soddisfazione e diciamo che si è da parte mia penso di aver colmato quella sensazione frustrante di non fare il massimo io attraverso questo metodo do la sensazione che come dicono loro push push spingi spingi finché si può senza andare oltre però sapere che il loro massimo il massimo del mio bambino lo raggiungo in questo modo qui grazie funziona allora per restare in tema vorrei che Marinella ci raccontasse la sua esperienza con la Conductive Education visto che ce l'abbiamo un caso in PKS va bene allora io ringrazio Giulia Fece perché mi ha aiutato lei Giuliana ad avvicinarmi anche a questa attività l'avevo trovata su internet poi mi sono messa in contatto con lei e abbiamo provato con Sara un 5 anni fa il primo approccio è stato fatto sempre a Torino dove ci siamo trovati benissimo perché Sara allora aveva un 4 anni circa e non stava in piedi da sola e non camminava l'hanno messa su una sedia con delle specie uno schienale diciamo tutto a strisce l'hanno messa in piedi e la facevano camminare da sola io e mio marito ci siamo guardati in faccia perché in un'ora sono riusciti a metterla a gattoni sono riusciti a fare cose che noi non avevamo mai visto fare a nostra figlia malgrado facesse fisioterapia due volte alla settimana allora io comunque entravo sempre anche se non mi volevano mi sono imposto ho detto oh io non mi porto qua mia figlia alla fine disperati mi hanno sempre lasciato entrare comunque niente allora abbiamo deciso però io allora io ho 4 figli e Sara è la quarta allora gli altri tre erano ancora giovani avevano bisogno che io ci fosse anche a casa e malgrado io sia di Bergamo quindi più vicina rispetto molto più vicina rispetto a Giulia a Torino mi era difficile andare due o tre volte alla settimana a Torino a portare la bambina perché non sapevo come fare con gli altri tre quindi abbiamo deciso di prendere una Condutra Educator a casa è venuta per un mese a casa nostra e Sara forse non era pronta per un lavoro così intensivo anche Sara piangeva piangeva tutto il giorno però devo dire facevano un buon lavoro le hanno insegnato l'equilibrio le hanno insegnato tante cose importanti a Sara che tuttora fa fatica a trovare l'equilibrio però subito hanno capito il problema e hanno subito lavorato su quello il fatto è che per Sara era troppo allora adesso forse sarebbe diverso per cui anche con un esame cardiologico aveva iniziato ad avere un'ipertrofia cardiaca forse troppo sforzo forse no forse non era dovuto a quello però noi abbiamo tentennato un attimo poi abbiamo provato a trovare un altro Condutra Educator però purtroppo non siamo riusciti a equilibrare tutte le esigenze certo anche noi abbiamo fatto un segno positivo su questa terapia e se fosse possibile riuscire a trovare il modo di potergliela far fare senza dover andare lontano sarebbe una cosa sicuramente positiva che consiglio di provare grazie grazie e noi ci auguriamo davvero di poter realizzare degli stage anche insieme a Giulia che ringrazio moltissimo per questo intervento ok grazie ancora proseguiamo adesso come ci ha fatto questa mattina chiamando dottoressa Emanuele Salzano che è di rientro ma poi ripartirà dal Children's Hospital di Filadelfia dove è rimasta per più di un anno il primo anno è stato in collegamento con una borsa di studio finanziata proprio dall'associazione grazie alla volontà di alcune famiglie e quindi chiediamo dove proprio attualmente credo sia il centro dove maggiormente vengono fatte le sperimentazioni o comunque più avanzato dal punto di vista della ricerca sia clinica che laboratoristica prego buonasera a tutti io tengo particolarmente prima di cominciare a ringraziare Samantha e il professore Cocchi di fatto per avermi consentito di essere qui oggi e apportare un contributo concreto alla realizzazione di un evento che in realtà credo essere espressione un po' di quella dialettica partecipativa tra famiglie consapevoli e clinici che poi sta alla base secondo me di uno scambio informativo fondamentale per il progresso sia assistenziale di questi bimbi che della ricerca e come molti di voi sanno io sono una pediatra mi sono formata in Italia e nel 2016 ho avuto questa straordinaria diciamo opportunità grazie all'entusiasmo proprio dell'associazione e la fiducia che l'associazione nutre nella ricerca direi di intraprendere un meraviglioso viaggio nella ricerca sulla sindrome di Pallister-Killian che come si diceva si è svolta presso il Children's Hospital di Filadelfia nei laboratori diretti dal professore Kranz e dal dottore Izumi che è un suo allievo che oggi purtroppo non sono presenti ma di cui sono molto lieta di portare i più affettuosi saluti a tutti direi che le origini di questo percorso conoscitivo della sindrome di Pallister-Killian di fatto risalgono al 1977 quando per la prima volta il dottor Pallister ha descritto due pazienti adulti con un fenotipo facciale direi con detratti del volto caratteristici associati a disabilità intellettiva epilessia ed alterazioni del tono muscolare attribuiti alla presenza di quello che inizialmente venne definito come marcatore cromosomico sovrannumerario cioè un pezzettino di cromosoma in più rispetto al corredo genetico normale delle cellule e che poi è stato identificato come contenente il materiale genetico presente nel braccio corto del cromosoma 12 a distanza di 4 anni nell'81 il dottore Killian descrive altri 4 pazienti con lo stesso fenotipo con le stesse caratteristiche e diciamo nell'86 si giunge a coniare il termine di sindrome di Pallister-Killian di fatto però si deve attendere il 2012 con uno studio che più volte è stato citato questa mattina per ottenere il primo tentativo di sistematizzazione direi delle caratteristiche cliniche dei pazienti con sindrome di Pallister-Killian proprio pubblicato dal team ricerca del professore Kranz e nell'arco di altri due anni di fatto il numero di segnalazioni di pazienti affetti da sindrome di Pallister-Killian supera il centinaio in letteratura e parallelamente lo stesso team di ricerca rende noti i risultati di un progetto volto in realtà al tentativo di una migliore comprensione dei meccanismi molecolari che sottostanno alla sindrome di Pallister-Killian e viene proposta una prima lista sostanzialmente di geni candidati ovvero di geni potenzialmente correlati alle caratteristiche cliniche riscontrati nei nostri bimbi e contenuti all'interno di quella regione che era stata definita poco prima dal dottore Zumi come regione critica di fatto per la sindrome di Pallister-Killian quando io nel 2016 ho l'opportunità di riunirmi a questo percorso erano già stati descritti più di 200 casi al mondo e oggi siamo io credo intorno ai 350 e tutto questo è stato possibile di fatto attraverso la ricerca la ricerca la ricerca è un po' direi la protagonista di una lotta quotidiana che medici e tanti ricercatori di fatto conducono nel tentativo di fornire si spera in un futuro quanto più prossimo possibile delle risposte più concrete alle esigenze dei bimbi con PKS e di tutte le famiglie sostanzialmente e tuttavia dare diciamo una definizione univoca di ricerca non è semplice e non è semplice perché costa di diversi aspetti esiste una ricerca di base che di fatto è la ricerca che nasce in laboratorio nasce tra le provette che sembra essere la più lontana dal paziente perché di solito nasce con fini speculativi cioè proprio volta all'identificazione dei meccanismi molecolari e però sono proprio quei meccanismi molecolari che se meglio compresi consentono di identificare eventuali target terapeutici su cui poter effettivamente agire e poi esiste una ricerca traslazionale che è il vero e proprio ponte tra il laboratorio e il paziente e che di fatto verifica l'applicabilità della scoperta fatta in laboratorio nella pratica dapprima diciamo su modelli che sono più simili al sistema umano di solito sono i modelli murini e poi su sistemi sperimentali umani sino ad arrivare fondamentalmente al paziente il paziente di fatto è il punto di arrivo ma contemporaneamente è anche il punto di partenza perché proprio attraverso l'osservazione del paziente attraverso l'analisi delle informazioni che in realtà voi familiari ci fornite che il nostro livello di consapevolezza sulla PKS aumenta e ci troviamo nelle condizioni di poter mettere in atto quei percorsi assistenziali direi mirati individualizzati volti di fatto a una diagnosi precoce per le nuove diagnosi e alla prevenzione delle complicanze al fine di fatto in questo momento di migliorare quelle che sono la qualità di vita e le aspettative di vita dei nostri pazientini è proprio attraverso studi osservazionali che a cavallo degli anni 2000 vengono fuori le prime stime di prevalenza che attestano la presenza di un paziente affetto ogni 20.000 25.000 nati vivi uno studio un po' più recente pubblicato nel 2015 e condotto in Gran Bretagna in un periodo tra il 2005 e il 2009 stimava 5 pazienti affetti per milioni di nati vivi e tuttavia con qualcuno ce lo siamo detti in realtà ieri sera la percezione è che ci sia un problema reale di sottodiagnosi della patologia e la patologia è sottodiagnosticata per un problema di espressività clinica variabile perché è vero che tutti i bimbi con PKS hanno degli elementi clinici comuni ma è anche vero che ogni bimbo in realtà è un po' uguale a se stesso e poi probabilmente c'è una difficoltà nell'identificazione dell'alterazione genetica sottostante la maggior parte dei bimbi descritti in realtà tutti al momento sono sporadici cioè fondamentalmente sorgono da un problema che si verifica nel prodotto del concepimento cioè la presenza dell'alterazione genetica non è trasmessa dai genitori e ai bimbi ed è di fatto dovuta alla presenza di due copie in più del braccio corto del cromosoma 12 altrimenti detto come isocromosoma 12P le origini dell'isocromosoma 12P ancora oggi non sono del tutto note e tuttavia la maggior parte degli studi proposti in letteratura suggeriscono come elemento predisponente all'insorgenza dell'isocromosoma 12P un evento di non disgiunzione durante la seconda meiosi materna diciamo che la meiosi è quel processo proprio soltanto delle cellule germinali quindi quella paterna lo spermatogiole lo spermatocita il suo precursore e quella materna fondamentalmente che consente la riduzione del corredo genetico cosiddetto euploide o diploide cioè costituito da 46 cromosomi a corredo genetico aploide cioè costituito da 23 cromosomi e questo avviene attraverso una prima divisione meiotica in cui i due cromosomi omologhi perché in realtà noi abbiamo due copie per ciascun cromosoma uno deriva dalla mamma e uno deriva dal papà quindi durante la prima divisione meiotica si ha la divisione di cromosomi omologhi sostanzialmente che migrano verso i due poli della cellula e che poi verranno ereditati dalla cellula figlia secondo un asse longitudinale durante la seconda divisione meiotica poiché di fatto ciascun cromosoma omologo è costituito da due cromatidi fratelli avremo la divisione dei due cromatidi fratelli cosicché da una cellula madre si origineranno quattro cellule figlie ciascuna con corredo genetico aploide il corredo genetico si ristabilisce al momento della fecondazione cioè quando la cellula germinale paterna contenente una copia del cromosoma 12 si unirà alla cellula germinale materna che dovrebbe contenere un'altra copia del cromosoma 12 e si ristabilisce la presenza delle due normali copie quello che succede nella maggior parte dei casi o si ipotizza cosa succedere nella maggior parte dei casi è che si abbia un evento di non disgiunzione cioè due cromatidi fratelli non si separano durante la seconda divisione meiotica e quindi di fatto al momento della fecondazione l'uscita che presenta due copie del cromosoma 12 si incontrerà con uno spermatozio che presenta la sua copia del cromosoma 12 portando alla formazione di uno zigote cioè del prodotto del concepimento di fatto con tre copie del cromosoma 12 questo predispone ad un altro evento che è quello di cui parlavo prima che avviene all'interno sostanzialmente del prodotto del concepimento che è un po' meccanismo in realtà anche di salvataggio della cellula per cui si verifica una rottura sull'asse trasversale di una delle tre copie in maniera casuale del cromosoma 12 con perdita della porzione inferiore del cromosoma 12 ovvero del braccio lungo e permanenza del braccio corto questo braccio corto che rimane si duplica così che noi avremo due copie del braccio corto del cromosoma 12 più le due presenti sulle altre due copie del cromosoma 12 cioè una tetrasomia quattro copie del braccio corto del cromosoma 12 per intenderci probabilmente lo sapete il braccio corto indicato con la lettera P dal francese Pt il braccio lungo del cromosoma indicato con la lettera Q perché la lettera Q nell'alfabeto segue la lettera T a complicare ulteriormente lo scenario l'isocromosoma 12P non è presente in tutte le cellule dell'organismo è presente in condizioni di cosiddetto mosecismo tessuto specifico il che significa che nello stesso individuo sono presenti almeno due popolazioni cellulari una popolazione cariotipicamente normale quindi costituita da 46 cromosomi e una popolazione che presenta anche un pezzettino in più che di fatto sono queste due extra copie del cromosoma 12 e quello che normalmente si verifica nei bimbi con PKS è che in realtà nei primi 28 30 giorni di vita il numero di cellule nel sangue che trasportano l'isocromosoma tende a ridursi molto velocemente fino a scomparire del tutto e questo rende diciamo ragione del motivo per cui noi dopo il primo mese di vita non riusciamo più a intercettare la presenza dell'isocromosoma sul sangue e necessitiamo di un altro campione biologico che sono i fibroblasti che di fatto desumiamo su biopsia cutanea perché a livello dei fibroblasti l'isocromosoma in mosaico si mantiene quindi noi riusciamo a verificarlo lo studio a cui facevo riferimento pubblicato nel 2014 pubblicato dal team di ricerca del professore Kranz è relativo al profilo di espressione dei geni esaminato su fibroblasti di pazienti con PKS perché poi di fatto i fibroblasti diventano anche il nostro patrimonio prezioso per poter condurre esperimenti in laboratorio ha evidenziato che in realtà esistono più di 300 geni che presentano un profilo di espressione diverso rispetto a quello presente nelle popolazioni cellulari normali che significa che alcuni geni funzionano molto di più e sono quelli che vedete rappresentati in rosso nello schema altri funzionano meno e sono quelli rappresentati in verde fondamentalmente inoltre andando a confrontare il comportamento delle cellule desunte dallo stesso clone di pazientino con FKS normali cariotipicamente e quelle con marcatore cromosomico è venuto fuori che in realtà queste due popolazioni di cellule non si comportano in maniera dissimile ma sono molto simili e quindi da queste due affermazioni viene fuori un'ipotesi che aleggia nell'aria ma che ancora non abbiamo dimostrato scientificamente ma probabilmente la presenza dell'isocromosoma 12p risale a fasi molto precoci dello sviluppo embrionale quindi originariamente un po' tutte le cellule potrebbero presentare l'isocromosoma 12p e questa presenza è in grado di creare direi una perturbazione globale in tutte le altre cellule che permane al di là del fatto che poi lasciatemi passare il termine queste cellule perdono come avviene nel sangue l'isocromosoma 12p e di fatto sono stati identificati alcuni geni come dicevo prima sul braccio corto del cromosoma 12 che è quando overexpressi quindi presenti in maggiore quantità come avviene nei nostri pazienti con PKS di fatto potrebbero andare ad interferire con la funzione di tutti questi altri geni alcuni dei quali sono già noti per essere correlati quando alterati funzionalmente alla insorgenza di alcuni quadri clinici che si riscontrano nella sindrome di Pallister-Killian come l'ernia di afframmatia congenita come alcune cardiopatie congenite e come il profilo di sviluppo in parte scheletrico che si riscontra nella Pallister-Killian attualmente il database del CHOP detiene informazioni cliniche di 128 pazienti riferiti presso il centro e in realtà dall'analisi di queste informazioni come sapete è emerso sicuramente in tutti i pazienti un fenotipo facciale abbastanza tipico cioè ci sono tanti piccoli elementi nel volto di questi bimbi che messi insieme sono suggestivi per sindrome di Pallister-Killian come la fronte alta come un arretramento dell'impianto dei capelli sul versante frontotemporale un profilo facciale che è un pochino più schiacciato una conformazione della bocca particolare perché tendono ad avere il labbro superiore sottile quello inferiore un po' più spesso è rivolto verso il basso una conformazione del palato ogivale che sta un po' alla base dei problemi di malocclusione ed alcune indentature sulla superficie del padiglione auricolare che sono abbastanza caratteristiche questi elementi del volto si associano nell'80% dei pazienti a delle anomalie cutanee di solito da ridotta pigmentazione cutanea e ad un insieme diciamo di diverse patologie a carico di diversi organi in particolar modo l'ernia diaframmatica congenita è stata riscontrata nella nostra casistica nell'11% dei pazienti così come anche la cardiopatia congenita nel 40% dei pazienti ma va detto che per fortuna nella maggior parte dei casi si tratta di cardiopatie non funzionali dal punto di vista cardiovascolare mentre le alterazioni gastrointestinali sono riscontrate in media in un 40% dei pazienti nel 12% di questi si tratta di malrotazione e la malrotazione così come l'ernia diaframmatica congenita e le cardiopatie andrebbero identificate alla nascita proprio per mettere in atto dei percorsi assistenziali specifici che sono volte a limitare le complicanze nel periodo perinatale nella maggior parte dei casi si caratterizzano per la presenza di anteriorizzazione dell'ano il coinvolgimento neurologico è riscritto in più del 70% dei pazienti mi riferisco a una disabilità intellettiva a problematiche di natura comportamentale spesso peraltro associate a un'alterazione del tono muscolare più frequentemente si tratta di un'ipotonia cioè di una riduzione del tono muscolare talvolta seguita nell'epoca successiva da un'ipertonia le problematiche gastrointestinali funzionali contano il 40% sostanzialmente anche l'epilessia in realtà nella nostra casistica è riscontata nel 40% dei pazienti problematiche oftalmologiche sono state riscontate nel 74% dei pazientini e una riduzione delle capacità auditive in un buon 60% per quanto riguarda le anomalie genitorinarie queste si riscontano nel 32% dei pazienti e come si diceva in realtà sono quasi tutti i pazienti di sesso maschile che presentano una dilatazione diciamo del bacinetto renale oppure un'alterazione una mancata diciamo discesa del testicolo nella borsa scrotale o un'anomalia di sbocco dell'ure tra la cosiddetta epospadia nei soggetti di sesso femminile effettivamente non abbiamo dati in quello studio che è stato pubblicato che viene fuori dalla casistica del CHOP nel 2012 di fatto non ci sono dati sui soggetti di sesso femminile perché non ne abbiamo paradossalmente qualcosa si trova andando a fare l'analisi della letteratura su feti andati incontro a morte diciamo e su questo in realtà sono presenti quattro casi segnalati in letteratura di pazientini di sesso femminile che presentano delle anomalie dei derivati miulleriani nella maggior parte dei casi si tratta di utero bicorne fondamentalmente con atresia della vagina dal punto di vista del profilo dello sviluppo in realtà alcune cose già sono state dette nel senso che questo è segnato da un incremento del peso alla nascita per età gestazionale e per sesso di solito seguito da una riduzione della velocità di crescita che origina a partire dal primo anno di vita la progressione attraverso le fasi dello sviluppo neuromotorio non sempre viene del tutto acquisita quando è acquisita in media è ritardata rispetto diciamo alla fisiologia per cui tendenzialmente in media tendono a ruotare intorno agli 11 mesi la posizione seduta viene acquisita intorno ai 21 mesi le prime parole intorno ai 36 mentre la deambulazione autonoma quando raggiunta in media si verifica intorno ai 40 mesi le problematiche comportamentali ancora sono poco indagate e anche questo studio è già stato mostrato questa mattina su una corte in realtà ristretta di 16 pazienti evidenziamo nel 75% dei pazientini i movimenti ripetitivi le cosiddette stereotipie del capo e degli arti seguite da un atteggiamento sonnolento in alcuni casi definito letargico meno frequentemente sono invece descritti comportamenti di autoaggressività o di aggressività verso versi e quadri di iperattività sulla base quindi direi di queste consapevolezze cliniche e in parte diciamo sui meccanismi molecolari sono state progettate le linee di ricerca oggetto della mia attività direi nell'ultimo anno e mezzo che da un lato quindi sul versante clinico sono state volte da un lato all'identificazione del profilo prenatale della PKPS allo scopo di orientarne il sospetto diagnostico in maniera quanto più tempestiva possibile e dall'altro la caratterizzazione della PKPS in pazientini con diverso background etnico sul versante invece della ricerca di base da cui inizieremo questo escursus le attenzioni si sono focalizzate sul tentativo di identificare nuovi potenziali approcci terapeutici in questo momento in vitro quindi su cellule prevalentemente attraverso l'inibizione della proliferazione dei fibroblasti contenenti l'isocromosomodo DCP e quest'ultimo filone di ricerca di fatto origina da quell'insieme di terapie che ultimamente vengono definite cromosomal therapies cioè terapie cromosomiche che sono volte all'eliminazione o al silenziamento fondamentalmente di un cromosomo al mantenimento dello stato di eoploidia cioè di corretto apporto genetico all'interno delle cellule e in particolar modo due studi pubblicati su CELS nel 2011 hanno dimestrato che sia i lieviti che i fibroblasti di embrioni murini presentanti un cromosoma in più nelle cellule di fatto condividono un cambiamento del comportamento cellulare indipendentemente dall'origine del cromosoma dovuto a un tentativo continuativo che se provano diciamo a mettere in atto di smaltire un carico proteico aumentato dovuto alla presenza di materiale cromosomico in eccesso e questo da un lato correla con un aumento dei livelli di stress basale all'interno di queste cellule dall'altro con una riduzione della velocità di crescita delle cellule e se guardiamo le curve di crescita di una linea cellulare normale definita come oploide e di quella aneoploide cioè con un cromosoma in più di fatto si nota come la velocità di crescita di queste cellule è ridotta e dall'altro lato questa condizione metabolica di partenza li rende molto più sensibili all'attività di alcuni composti che vanno quindi alcuni farmaci che vanno proprio ad interferire sostanzialmente con questi pathway metabolici è proprio sulla base di queste evidenze che è stato pubblicato un altro studio da parte del MIT di Boston in cui sono state verificate le risposte di fibroblasti embrunali immunitrisomici per diverse linee cromosomiche all'esposizione a una lunga lista in realtà di farmaci che sono in grado di andare a interferire in maniera diretta o in maniera indiretta con lo stress metabolico basale e di queste due in particolare sono risultati molto interessanti uno identificato con l'acronimo di ICAR un altro identificato con un acronimo 17AG in realtà è un derivato sintetico di un composto antibiotico che è l'algenda la micina e i risultati emersi da questo studio fondamentalmente evidenziano che i fibroblasti trisomici in questo caso vedete rappresentati con i simboli in bianco la trisomia per il cromosoma 13 presentano una sensibilità notevolmente superiore ad ICAR rispetto alle linee cellulari normali che vedete rappresentate in nero in realtà è proprio in grado di inibire selettivamente la proliferazione di questi fibroblasti con cromosoma in più e di fatto rispetendo la stessa tipologia di esperimenti con il secondo farmaco con il 17AG sebbene sembrerebbe che quest'ultimo sia un po' meno efficace rispetto ad ICAR dall'uso in combinazione di questi due farmaci si riusciva ad ottenere un effetto notevolmente superiore di fatto in termini di riduzione sostanzialmente della proliferazione cellulare delle linee che trasportavano il cromosoma in più nettamente superiore peraltro l'uso in singolo in combinazione di questi due farmaci era già stato dimostrato per essere efficace nell'inibire la proliferazione di cellule tumorali trisomiche per diverse tipologie di cromosomi e proprio attraverso questi studi su cellule tumorali che si era potuto guadagnare un po' di campo nella interpretazione del meccanismo molecolare quanto meno della 17AG un po' meno per ICAR perché in realtà di ICAR che sembrerebbe essere poi il farmaco più efficace ancora non sappiamo esattamente qual è il meccanismo con cui agisce ma sicuramente sembrerebbe andare ad interferire con quelle centraline diciamo dello stress metabolico cellulare che poi inducono a morte della cellula per cui l'obiettivo dello studio era verificare l'efficacia di ICAR nell'inibire la proliferazione dei fibroblasti di pazienti affetti del MKS trasportanti l'isocromosoma 12P per cui cloni immortalizzati di fibroblasti sono stati esposti a dosaggi crescenti di ICAR per un periodo di tempo variabile fino a 21 giorni e gli effetti sono stati testati sostanzialmente in termini di cambiamenti morfologici delle cellule in termini di sopravvivenza cellulare globale post esposizione al farmaco e in termini di quantificazione di fatto del numero di cellule che rimanevano dopo l'esposizione al farmaco con l'isocromosoma 12P peraltro sono state utilizzate nelle prime fasi di questi esperimenti delle linee cellulari immortalizzate sono delle linee modificate rispetto alle linee primarie sostanzialmente che sono quelle che noi otteniamo dalla biopsia dei pazienti perché sono delle linee più stabili e quindi più maneggevoli per poter effettuare gli esperimenti e il risultato della linea immortalizzata a PKS è stato confrontato con quello di una linea con corredo genetico normale già guardando in realtà la curva di crescita basale quindi in assenza di stimoli delle due linee quella normale che è indicata come WT e quella diciamo PKS si nota come la linea dei fibroblasti PKS ha una velocità di crescita che è molto più lenta rispetto alle cellule con corredo cromosomico normale e diciamo variazioni morfologiche dei fibroblasti PKS si riscontravano già a distanza di due giorni dall'inizio della terapia quello che vedete nella slide nella parte superiore sono immagini scattate sulle provette quindi sono le modificazioni dei fibroblasti dopo due giorni di trattamento nella parte inferiore sono le modificazioni dei fibroblasti dopo sette giorni di trattamento a dosaggi crescenti 0,5,1,1,5 di ICAR la prima immagine sulla linea superiore e su quella inferiore rappresenta di fatto un pattern di crescita normale dei fibroblasti per cui è abbastanza evidente come ci sia sicuramente un cambiamento di morfologia queste cellule tendono ad essere allungate tendono ad aumentare gli spazi tra una cellula e l'altra il che significa che il numero di cellule di fatto si riducono fino ad essere pressoché assenti per trattamenti di sette giorni al dosaggio più alto cioè quello che vedete in basso alla vostra destra 1,5 per cui si è cercato di rispondere a tre domande in primo luogo ICAR è effettivamente in grado di inibire la proliferazione dei fibroblasti con l'isocromosoma esiste una dose che è in grado di inibire selettivamente questi fibroblasti che trasportano l'isocromosoma ma che sia relativamente sicura sulle cellule normali perché ovviamente non vorremmo uccidere tutte le cellule deve essere un'azione selettiva e poi è stata valutata l'efficacia del farmaco in funzione del numero di cellule utilizzate del tempo di esposizione e della dose perché di fatto questi sono i tre parametri che rendono un po' l'idea della maneggevolezza di un composto chimico un farmaco qualsiasi esso sia in questa slide apparentemente abbastanza complessa vengono riassunti i risultati dell'esperimento sono due serie di esperimenti la prima serie sulla prima linea la seconda serie sulla linea B la differenza unica fra le due tipologie di esperimenti è il numero iniziale di cellule di partenza nel senso che nella prima linea sono state utilizzate esattamente la metà di cellule rispetto alla linea inferiore questo per valutare se c'è un effetto dipendente dal numero di cellule fondamentalmente e la cosa importante è che fondamentalmente si è riusciti ad identificare un dosaggio che in realtà è un dosaggio intermedio di Icar che è in grado di inibire 0.5 millimolare la proliferazione dei fibroblasti con isocromosoma che vedete rappresentati in grigio mentre non ha perso che effetto sulla linea normale che vedete rappresentata in nero e questo era valido in realtà in tutte e due le serie di esperimenti ma l'effetto sicuramente è di entità superiore sulla prima linea se confrontiamo le due colonnine grigie in alto e in basso quindi laddove in realtà si era utilizzato un numero minore di cellule in termini poi di assetto genetico andando a guardare qual era il corredo cromosomico di queste cellule sopravvissute si è notato che già dopo due giorni al trattamento in realtà la percentuale di mosecismo cioè il numero di cellule con l'isocromosoma era notevolmente ridotto quasi prossimo a due che rappresenta il corredo genetico normale cioè le due copie del cromosoma 12 fondamentalmente e tendeva a rimanere stabile pressoché diciamo prossimo alla normalità anche nei quattro giorni successivi alla sospensione del trattamento è stato possibile verificare che esiste un effetto dipendente dalla dose del farmaco perché di fatto aumentando il farmaco si riduce in maniera proporzionale il numero di cellule che di effetti sono sopravvissute e quello su cui stiamo lavorando in questo momento diciamo verte su due aspetti da un lato stiamo testando il secondo composto cioè il 17 AG sempre su linee immortalizzate la linea PKS sembra essere sempre più sensibile rispetto alla linea controllo a questo tipo di farmaco ma in termini di riduzione della percentuale di mosecismo l'effetto inferiore rispetto ad Icar e dall'altro lato abbiamo iniziato diciamo ad effettuare lo stesso tipo di esperimenti su linea cellulare primaria cioè su quelle cellule che noi disumiamo dalla biopsia cutanea perché di fatto è un modello pur sempre in vitro ma molto più vicino alle cellule reali quindi dei nostri pazienti e sembrerebbe dei primi risultati che in realtà diciamo c'è una riproducibilità cioè avviene un po' la stessa cosa in conclusione quindi possiamo dire che le cellule PKS di fatto presentano una maggiore sensibilità a questi composti che è stato possibile identificare una concentrazione intermedia in particolare di Icar che in questo momento è in grado sicuramente di indurre a morte le cellule con i su cromosomato di cipi immortalizzate ed è chiaro che questi sono comunque dei risultati interessanti perché aprono delle prospettive anche sui eventuali approcci terapeutici dobbiamo considerare però in questo momento che ci sono alcuni aspetti ancora da chiarire non ultimo il meccanismo di azione di Icar che è fondamentale e poi diciamo un altro aspetto che potrebbe di fatto limitare l'applicabilità nella pratica clinica che va quindi approfondito con ulteriori studi è l'aspetto immosecismo della sindrome in sé che un po' limita gli esperimenti in vitro un po' diciamo limita la possibilità di trasporlo nella pratica clinica transitando quindi al versante clinico come dicevo buona parte degli sforzi sono stati di fatto volti all'identificazione del profilo prenatale questo perché ancora in realtà è abbastanza difficile fare una diagnosi in prenatale di sindrome di Pallister-Killen ed è difficile sia per un'espressività clinica variabile l'abbiamo detto tante volte sia per una diciamo difficoltà nel reperire anche in prenatale la presenza dell'isocromosoma 12p sia perché in realtà diciamo malgrado siano stati segnalati più di 80 casi dall'85 ad oggi nella maggior parte dei casi sono segnalati come casi isolati e questo probabilmente ha fatto un po' perdere quella che è la visione di insieme sicuramente tra gli elementi clinici riportati in prenatale l'ernia diaframmatica congenita probabilmente anche stata sovrastimata dalla letteratura ha un suo ruolo i difetti cardiaci congeniti la riduzione della lunghezza delle ossa lunghe mi riferisco al femore e all'omero la dilatazione del sistema ventricolare e ultimamente prende capo diciamo la segnalazione dell'incremento del liquido amniotico in prenatale nel tentativo quindi di sistematizzare questi dati è stata fatta un'analisi retrospettiva dei dati clinici disponibili nel database del CHOP è stata diffusa un'intervista che alcuni di voi hanno anche complilato grazie alla preziosa collaborazione in realtà delle associazioni Samantha ha contribuito alla distribuzione di questa intervista e diciamo l'associazione statunitense per il versante statunitense a questo studio peraltro negli ultimi giorni si sono aggiunti due casi segnalati dalla dottoressa Tacur del centro di medicina per il Natale di Nuova Delhi e sono stati messi insieme i dati e confrontati ad un'analisi estensiva degli 86 pazienti che erano stati già descritti in letteratura e quello che viene fuori è che in termini di riscontri ecografici sicuramente a casistica e combinate in realtà l'elemento più comune è quello dell'incremento del liquido amniotico del polidramnios segue poi la riduzione della lunghezza del femore sia nella nostra casistica che in realtà in letteratura nella nostra casistica poi sono presenti in 20% dei pazienti segnalazioni di macrosemia fetale con un feto più grande rispetto alla normalità mentre l'ernia diaframmatica congenita che si attesta intorno al 27% come percentuale di frequenze in letteratura in realtà nella nostra casistica è pari al 5% così come anche le anomalie cardiache che in realtà nella nostra casistica sono meno presenti rispetto a quelle riportate in letteratura e questo probabilmente riflette in realtà un bias di arruolamento dei pazienti un errore nell'arruolamento dei pazienti tra virgolette nel senso che la nostra casistica acquisisce informazioni da pazienti pediatrici che quindi hanno superato in qualche maniera favorevolmente l'adattamento alla vita extraterina mentre la maggior parte dei dati presenti in letteratura di fatto derivano da storie di interruzione volontaria o spontanea di gravidanza proprio conseguenziale alla presenza di malformazioni complesse quindi tendenzialmente intercettano in casi un po' più severi un altro diciamo elemento che è emerso è l'ampliamento come dicevo dei ventricoli quello che viene categorizzato in un gruppo più ampio delle anomalie cerebrali fondamentalmente e il 20% dei pazienti in letteratura sono anche diciamo associati a polidattilia imprenatale diciamo che gli ultimi casi segnalati inoltre presentano una descrizione anche del fenotipo imprenatale di fatto l'introduzione dell'ecografia in 3D apre oggi le porte anche all'identificazione di quei tratti clinici del volto che sono visibili diciamo al momento della nascita durante l'epoca la vita intrauterina e questo insieme a tutti gli altri elementi può di fatto facilitare il sospetto diagnostico plottando insieme mettendo insieme i dati dei parametri di crescita in prenatale disponibili nella nostra casistica e letteratura è stato anche possibile interpolare delle curve di crescita per il diametro biparietale la circonferenza cranica la circonferenza addome e la lunghezza del femore ed in particolare il dato diciamo importante che si evince è che la circonferenza cranica tende a viaggiare molto al di sopra della normalità confrontando quelle curve di crescita normale siamo al di sopra del novantesimo centile quasi per tutta la durata della gestazione mentre al contrario la velocità di lunghezza del femore è tanto al di sotto del decimo percentile nella maggior parte dei casi in termini di capacità di intercettazione diciamo diagnostica dell'isocromosomato di CP da parte di quelli che sono i normali test di screening e diagnostici che vengono eseguiti in gravidanza non abbiamo dati particolari nel senso che non ci sono variazioni significativi dei markers sierologici materni normalmente analizzati dai test di screening vorrei porre l'attenzione sull'incremento e la traslocenza locale descritta in 3 pazienti su 17 nella nostra casistica ma in 14 su 16 pazienti descritti in letteratura ricordiamoci sono i pazienti con fenotipo clinico più severo mentre in termini di test invasivi quindi la villocentesi e l'amniocentesi la villocentesi tende a perdersi diciamo il cromosoma sovranumerario in quasi un paziente su due mentre invece l'amniocentesi ha una capacità di intercettazione diagnostica che arriva al 95% perché mi sono soffermata sul dato della traslocenza nucale perché è vero che nella nostra casistica sono pochi i casi descritti con incremento della traslocenza nucale ma tutti i casi descritti nella nostra casistica e quelli in letteratura in realtà presentano poi un'ernia diaframmatica congenita o una cardiopatia maggiore di quelle che necessiterebbero di un'assistenza alla nascita specifica per evitare le complicanze e un esito sfavorevole un altro elemento che è emerso dall'analisi di questi dati è che l'incremento del liquido amniotico di fatto si associa ad una macrosomia alla nascita quindi a un peso maggiore alla nascita anche questo postere furiero di complicanze al momento del parto e in epoca perinatale e tra l'altro è un fattore di rischio per parti pretermine sicuramente l'ernia diaframmatica congenita è quella che può determinare un maggiore rischio di complicanze esito in fausto subito dopo la nascita e che quindi andrebbe intercettata in prenatale proprio per determinare diciamo dei percorsi specifici di assistenza da prima direi del primo vagito esistono quindi una serie di elementi soprattutto del secondo trimestre di gravidanza che possono identificare il sospetto diagnostico per PKS come l'incremento del liquido amniotico la macrosomia fetale la riduzione della lunghezza del femore soprattutto se presenti in associazione e che devono da un lato evidentemente imporre l'esclusione di quelle patologie malformative complesse di cui bisogna avere consapevolezza già al momento della nascita e dall'altro qualora queste non ci siano fare ricercare la presenza di anomalie minori cioè i ventricoli cerebrali aumentati la polidattilia proprio per indirizzare il sospetto diagnostico peraltro un altro dato insomma è che in presenza di un sospetto per PKS in gravidanza anche qualora ci sia una storia negativa alla villocentesi va comunque richiesta all'amniocentesi possibilmente dando anche l'indicazione al laboratorista del sospetto diagnostico perché in realtà le lunghe culture questo succede anche negli esperimenti in laboratorio di amniociti tendono a fare perdere l'isocromosoma allora il sospetto diagnostico va esplicitato a chi deve ricercarlo perché deve o fare un array su fondamentalmente amniociti non imposti in cultura o fermarsi ai primi stadi e alle culture evitare i passaggi successivi l'ultimo progetto di cui molto brevemente farò cenno si pone in continuità con un progetto promosso dall'NIH in realtà nel 2016 di creazione di un'atlanteditis morfologia clinica che diciamo tenga conto delle diversità morfologiche proprio dell'appartenenza a diversi background etnici questo perché probabilmente diciamo che gli strumenti a nostra disposizione sia di formazione che di aggiornamento mi riferisco alle risorse web mi riferisco ai manuali cartacei sono fondamentalmente desunti da immagini e informazioni che provengono da pazienti di origine europea e caucasica e talvolta di fatto non riflettono a sufficienza quella variabilità fenotipica che può portare ritardi nella diagnosi e questo è soprattutto vero per una patologia come la pallister-chillian in cui sostanzialmente se non hai il sospetto clinico puoi facilmente perdere la diagnosi genetica facendo un prelievo di sangue e quindi così come è stato fatto per la sindrome di Down negli ultimi mesi la sindrome di Nuna nella sindrome da delezione nel braccio lungo del cromosoma 22 di fatto è stata raccolta una piccola casistica di 14 pazienti 4 di origine asiatica 5 di origine ispanico-latina secondo le categorie dell'NIH e 5 di origine afroamericana e sono state diciamo esaminate sia le caratteristiche cliniche che i profili del volto frontale e laterale nella figura 2 vedete i bambini di origine indiana la figura 3 i bambini di origine ispanico-latina in figura 4 sono i profili di bambini di origine afroamericana diciamo che guardando queste immagini penso si possa cogliere una differenza una variabilità fenotipica in realtà anche all'interno dello stesso gruppo etnico e tuttavia al di là di queste diciamo differenze che a colpo d'occhio vengono fuori esistono secondo me alcuni elementi clinici che potremmo un po' definire delle maniglie diagnostiche che sono trasversalmente presenti indipendentemente dal background etnico di appartenenza e sono proprio quelle che ci siamo dette prima cioè questa fronte un po' alta l'attaccatura l'alopecia cioè un fronte temporale l'aumento della distanza degli occhi la conformazione particolare della bocca molti presenti inoltre presentano una morfologia caratteristica delle manine e dei piedini che definiremo più piccole e paffute e poi un altro elemento descritto comunemente sono le anomalie della pigmentazione cutanea va detto che i pazientini di origine afroamericana presentano uno spettro più ampio di manifestazioni cutanee oltre a quelle da depigmentazione hanno lesioni da iperpigmentazione e poi tendono ad avere una cute particolarmente secca che quindi tende a fare lesioni tipo e che zematoso più spesso che in altri pazienti in termini di anomalie strutturali diciamo in termini generali i pazienti asiatici presentano una maggiore frequenza di anomalie cerebrali prevalentemente sempre ampliamente dei ventricoli in un paziente è stata riscontata un'anomalia cerebellare i pazienti di derivazione spanico-latina presentano malformazioni gastrointestinali ma rotazione erne diaframmatica congenita con maggiore frequenza i pazientini afroamericani presentano una maggiore frequenza invece di anomalie del tratto sostanzialmente anorrettale e tra l'altro tutti i pazienti di origine afroamericana stranamente presentano un'anamnesi gestazionale positiva per incremento del liquido amniotico e uno su due alla macrosomia alla nascita e lì in generale l'idea che ci siamo fatti è che i pazienti più a rischio di essere misconosciuti cioè di avere un ritardo nella diagnosi come si vede anche dall'età media più alta alla diagnosi nel grafico sono i pazienti di origine asiatica la direttiva futura quella a cui stiamo lavorando in collaborazione con il dottor Munch che ha promosso questo progetto all'NIH è quella di collezionare quante più immagini possibili di pazienti di diverso background etnico ne servirebbero più o meno 40 per ogni background etnico per testare i software digitali di riconoscimento facciale e proprio per aumentare sostanzialmente la capacità diagnostica soprattutto in quelle realtà dove è più difficile l'accesso alla cura e al test genetico con questo in realtà concludo quali sono cosa sta bollendo in pentola sul versante clinico stiamo lavorando alla costituzione di curve di crescita dedicate per la sindrome di Pallister-Killian stiamo cercando di approfondire un altro aspetto abbastanza interessante che è la sovrapposizione del fenotipo tra la Pallister-Killian e la sindrome di Beckwith-Piedemann esistono delle caratteristiche cliniche comuni tra le due sindrome l'incremento del liquido amniotico il pattern di aumento della crescita in prenatale difetti di parete addominale la macrosomia alla nascita e diciamo a volte l'emipertrofia cioè questa differenza di lunghezza tra l'arto di cui si parlava stamattina che sono comuni a queste due sindrome per cui un'idea era quella di andare a studiare la regione critica che più correla questi aspetti nella Beckwith-Piedemann e nei pazientini affetti da PKS e poi un altro aspetto molto interessante sarebbe quello di andare a valutare la storia naturale cioè le complicanze e le comorbidità età e dipendenti di questi pazienti si è visto infatti che diciamo manca un po' tutta la caratterizzazione correlata all'età più avanzata diciamo dai 12 anni in poi sostanzialmente la conoscenza di quelle che sono le comorbidità e gli stati cronici possono di fatto aiutare nella prevenzione delle complicanze e aumentare l'aspettativa di vita di questi pazienti sul versante della ricerca di base si viaggia su due binari da un lato il primo binario è quello dell'identificazione sostanzialmente del gene candidato per cui un'idea era quella di indurre l'overespressione di tutti quei geni che avete visto nella lista dei geni candidati e di comportare di confrontare il comportamento delle cellule con l'overespressione di ciascun gene con quella dei pazienti con PKS fino in pratica a trovare il match giusto e poi diciamo il secondo binario è quello che dà seguito a quello che ci siamo detti sui target terapeutici cioè fondamentalmente quello di andare a indagare come effettivamente ICAR agisce e di andare a testare ICAR su modelli cellulari che sono più simili all'uomo che sono le IPS che hanno in sé la capacità di differenziarsi in diversi tessuti dell'organismo e che quindi potrebbero darci un'idea di come diversi tessuti dell'organismo rispondono alla somministrazione di questo farmaco l'altra linea su cui stiamo riflettendo è stato scritto in aboggio il progetto di ricerca è quella della terapia genica esiste un gene che è questo Zscan4 che è già noto per essere implicato nel mantenimento del corretto assetto genetico cellulare e che è già stato dimostrato essere in grado di convertire diciamo così le cellule trisomiche i fibroblasti trisomici di pazienti con sindrome di Down e con trisomia 18 in cellule disomiche che si vorrebbe provare a far overesprimere nei nostri fibroblasti di pazienti con PGHS e verificarne effettivamente l'efficacia io con questo concludo ringrazio tutti voi per la pazienza spero di non averne abusato un ulteriore ringraziamento lo vorrei fare a tutti coloro i quali in realtà hanno contribuito a vario titolo affinché tutto questo si potesse realizzare quindi l'associazione italiana da cui tutto di fatto è partito è Samantha Carletti l'associazione statunitense che di fatto in questo momento ha sovvenzionato il posto di postdoc che poi il dottore Kranz ha diciamo dato a me e il professore Cocchi tutto il laboratorio di ricerca che oggi non è potuto essere presente e che sta al CHOP e cosa più importante Marinella e Massimo tutte le famiglie tutti i bambini PGHS senza cui fondamentalmente come avrete capito tutto questo non si sarebbe potuto fare e vi voglio lasciare con una frase un po' diciamo di importazione statunitense del vecchio presidente perché penso che fermamente i nostri bambini meritino questo sforzo alla conoscenza continua dobbiamo continuare grazie mille veramente siamo noi che dobbiamo ringraziare per tutto quello che stai facendo per l'impegno che hai profuso per il fatto che ti sei allontanata dalla tua famiglia dal tuo ambiente e stai vivendo una realtà sicuramente un'esperienza bellissima però è un sacrificio notevole però quello che ripaga è quello che tu stai acquisendo le competenze che stai acquisendo l'impegno che stai dedicando quindi veramente un ringraziamento da parte di tutti noi veramente grazie bene adesso torniamo una realtà più vicina a noi vale a dire quello che è la cura l'assistenza un va de me come per le famiglie un tentativo di proporre dal punto di vista assistenziale anche una sorta di linea di comportamento linea guida quindi chiamo innanzitutto Alessandro Rocca e Giacomo Sperti so verranno in successione so come siete organizzati per presentare questo progetto diciamo così cura e assistenza un va de me come per le famiglie come ho anticipato forse in maniera molto frettata stamattina Alessandro Rocca si è laureato tutti e due sono laureati con un'attesi sulla simile di Palli Strichiliano e a me non risulta che in Italia altri laureandi abbiano scelto questo argomento e Alessandro Rocca è già anche in fase di specializzazione e al terzo anno del corso di specialità Giacomo Sperti si è laureato proprio quest'anno da pochi mesi e quindi è in attesa di entrare in specialità bene sentiamo le vostre conclusioni le vostre ipotesi prego Alessandro allora abbiamo provato a preparare questo intervento condiviso è un intervento che abbiamo cercato di centrare proprio su voi famiglie che rappresentate la realtà con cui noi stessi anche semplicemente da studenti siamo entrati in contatto inizio con una una brevissima presentazione che anticipo già sostituirà qualunque forma di ringraziamento che stessera non sarò in grado di fare perché in un qualche modo vuole essere la giusta introduzione a questo a questo lavoro che vogliamo sia dedicato a voi a voi famiglie che siete accomunate da una storia che inizia da lontano per molte famiglie inizia anche da prima della data del 7 giugno 2011 per noi come ha già detto anche il professor Cocchi questa mattina inizia invece in questo giorno quando nella sala parto del Sant'Orsola nasce Giacomino e quando nel corso delle settimane successive a Samanta a Paolo giunge la diagnosi di PKS e quel vulcano di Samanta decide di elaborare in maniera costruttiva questa notizia fondando l'associazione PKS Kids Italia passa qualche anno un anno e mezzo circa e a questo orizzonte si affaccia un medico che era più giovane che era un po' più magro di come è adesso che non è il prof Cocchi ma che sono io ecco e che appunto mi presento al professor Cocchi e con l'occasione della tesi il prof mi mette in contatto con con Samanta e mi permette la possibilità di avviare una ricerca proprio sulla sindrome di Pallister-Killian e questa ricerca non l'ho fatta certo da sola da solo l'ho fatta con almeno 15 famiglie e molte di queste famiglie sono qui che hanno gentilmente dato plurime disponibilità a rispondere alle mie domande mi hanno permesso di farmi un'idea della situazione dello stato dell'arte della PKS in Italia e di confrontare i dati a nostra disposizione con il panorama della ricerca che fino a quel momento era disponibile e ancora una volta cito il lavoro che è stato citato più e più volte nella giornata di oggi e ci laureiamo nel 2013 però si svolge anche il primo workshop europeo si svolge a Loiano e si svolge nello stesso modo in cui si sta svolgendo questo di workshop con la possibilità di una giornata dedicata a un convegno didattico per fare il punto sulla situazione sulla sindrome di Pallister-Killian ha rappresentato secondo me un momento di incontro incredibile tra la parte dei medici presenti e voi genitori non penso sia banale sottolineare la presenza delle famiglie al convegno perché ha veramente aiutato a fare il punto sulle necessità concrete che i vostri bambini hanno e penso che anche tutti gli impulsi che ci sono stati negli anni successivi siano nati in qualche modo in questi due giorni che ci sono stati a Loiano impulso impulsi vari tra i tanti possiamo citare una cena per Sara e la fatica e l'impegno che in particolare la famiglia di Marinella ha profuso nell'organizzazione di questo evento sia a settembre del 2014 sia poi il 3 dicembre 2015 quando grazie ai fondi raccolti è stato possibile avviare il primo grant di ricerca il 2015 ha rappresentato però anche un anno in cui siamo stati tutti colpiti dalla perdita di Simone di Simone Buccherini e sicuramente questo penso rappresenti un po' uno degli eventi che ci ha ricordato le fragilità che questi bambini hanno e ha rappresentato però anche un'ulteriore possibilità di vivere in maniera diciamo costruttiva il percorso che già c'era e i percorsi di ricerca che hanno continuato ad esserci successivamente e che noi vogliamo continuino ad esserci e poi negli ultimi mesi del 2016 e nell'arco del 2017 ho avuto l'onore di conoscere Giacomo Giacomo che si è mostrato interessato a a prendere in mano ancora una volta una possibilità di ricerca sulla PKS in particolare sulla PKS in Italia ancora una volta c'è stata la disponibilità da parte delle famiglie che nel frattempo potete vedere sono aumentate e la possibilità di incrociare i dati con un panorama di ricerca che si è sicuramente arricchito di altre revisioni di altri case report di altre informazioni e a questo punto lascio la parola a Giacomo che vi descriverà che cosa è nato proprio dalla sua tesi grazie grazie Alessandro per la parola volevo ringraziare anche il professor Cocchi la dottoressa Samantha Carletti e tutti i genitori che mi hanno permesso i laurearmi senza i quali appunto tutto questo non sarebbe stato possibile ecco il titolo della mia tesi è stato la sindrome di Pallister-Chillian valutazione del profino prenatale e del fenotipo clinico postnatale appunto in questa tesi abbiamo ricercato quelle caratteristiche del fenotipo dismorfologico malformativo neurologico e siamo andati a analizzare un po' come hanno fatto anche al cinturino ospedale di Filadelfia sicuramente in maniera molto eccelsa le anomalie ecografiche prenatali siamo partiti dai nostri assistiti all'interno dell'ambulatorio specialistico di malattierare all'interno dell'unità operativa di neonatologia gestita dal professor Cocchi che fino ad oggi conta 5 pazienti e tuttavia per costruire uno studio che comprendesse una casistica più ampia ci siamo quindi rivolti alla dottoressa Carletti che ci ha permesso di entrare in contatto con tutte voi famiglie per raccogliere i dati abbiamo creato un questionario che andava a ricercare informazioni riguardo alla gravidanza al parto al periodo non natale ai dismorfismi alla nascita alle anomalie di organi apparati alla nascita e successivi controlli al fenotipo neurologico e alla diagnosi di PKS in totale i questionari compilati sono stati 23 la nostra popolazione è composta da 14 maschi e 9 femmine con un sex ratio di 1.6 il range di età della nostra popolazione va dagli 8 mesi ai 20 anni e una mediana dell'età di 8 anni e 9 mesi analizzando le anomalie di smorfolore anomalie prenatali vediamo come la principale sia il polidramnios nel 40% dei casi seguite dalle anomalie cerebrali come soprattutto la venticolomegalia l'anomalie del cervelletto dalle anomalie della fossica cranica posteriore come terzo riscontro c'è la presenza di la ridotta lunghezza delle ossa lunghe seguito dalle anomalie genitorinarie e l'ernia da frammatica è stata riscontrata in due nostri pazienti quindi nel 10% abbiamo analizzato le anomalie dismorfologiche alla nascita vediamo come tra le anomalie più frequenti superiore al 60% siano presenti le bozze frontali i capelli radi e la stempiatura frontotemporale le sopracciglia rade le arcate sovrorbitari ipoplasiche il ponte nasale infossato in un 70% di casi la retrorotazione il basso impianto delle orecchie il filtro labiale lungo e il lavo di pallister nell'80% dei casi l'iperterrorismo e la caratteristica dismorfologica più frequente nel 95% dei casi sono presenti anche dismorfismi del tronco come la fossetta pilonidale nel 42% dei casi e il dismorfismo degli arti dati soprattutto dal sorco palmare unico e dalla clinodattilia della camptodattilia abbiamo analizzato anche le malformazioni e le anomalie congenite a livello di cuore dei vasi sono presenti soprattutto difetti della settazione come difetto interlaterale forame o vale pervio del div tuttavia non in percentuali elevate come possiamo vedere il più rappresentato del difetto interlaterale nel 21% dei casi malformazioni da prato digerente come l'anno anteriorizzato nel 40% dei casi mentre vere e proprie malformazioni anorettali nel 13% dei casi l'ennaida frammatica è stata riscontrata in due pazienti in una percentuale che vediamo molto simile a quello dello studio riportato precedentemente dalla dottoressa Salsano e della dottoressa Wilkins che dà una percentuale dell'11,1% altre anomalie sono state l'idroneteronefrosi nel 10% dei casi abbiamo analizzato anche i valori antropometrici alla nascita dei pazienti con PKS e abbiamo suddiviso i percentili di peso lunghezza la circonferenza cranica in quattro fasce possiamo vedere come la nostra popolazione rappresentata dalle barre in blu si vada a collocare sui facci di percentili più alta oltre il cinquantesimo percentile in particolare la circonferenza cranica come diceva anche la dottoressa Salsano è in maggior parte dei casi oltre il novantesimo percentile già alla nascita abbiamo valutato l'antropometria all'ultimo controllo e vediamo come questa caratteristica rallentamento dell'accrescimento staturo ponderale è presente anche nella nostra popolazione infatti vediamo le colonne in blu vediamo come i nostri pazienti si collucano al di sotto il cinquantesimo percentile e i nostri dati come possiamo vedere dal confronto con lo studio della dottoressa Wilkins è conforme in quanto le percentuali sono molto simili anche la distribuzione della popolazione è molto simile abbiamo analizzato le anomalie durante il follow up vediamo come nel 75% dei casi si appresenta la presenza di strie di ipo e iperpigmentazione cutanea che è una caratteristica peculare della sindrome di Pallister-Chillian insorge in un 17% dei casi l'ipertrofia ventricolare o settale anche se in nessun caso si è parlato di ipertrofia cardiomepartia epertrofica sono presenti anche per quanto riguarda la popolazione maschile la mancata discesa dei testicoli in un percentuale molto alto circa l'80% dei casi inoltre possiamo vedere come sono presenti seppur in meno percentuali anomalie muscoloscheletriche soprattutto dati da difetti della colonna vertebrale come la scogliosi la cifosi e la lordosi per quanto riguarda il fenotipo neurologico vediamo subito come è la nascita nel 90% dei casi e i pazienti si presentano ipotonici l'ipotonia sicuramente è uno dei fattori che più va a inficiare sul successivo neurosviluppo vediamo come le principali tappe del neurosviluppo appaiano rallentate e acquisite tardivamente la mediana dell'età della capacità di sedersi autonomamente sui 12 mesi mentre la maggior parte dei pazienti non acquisisse la capacità di camminare di linguaggio di controllo di sfintere e la capacità di alimentarsi autonomamente inoltre a peggiorare il quadro neurologico nel 40% dei casi quindi anche questa è una percentuale che ritorna con lo studio della dottoressa Sazzano in circa il 40% dei casi oltre alle anomalie del neurosviluppo sono presenti malformazioni del sistema nervoso centrale in particolare nel 40% dei casi la presenza di latazioni dei venticoli cerebrali ma anche la ipoplasia e la genesia del corpo calloso le anomalie cerebrali e il ritardo della milenizzazione inoltre anche i sistemi uditivi e visivi sono compromessi in un 60% dei casi è presente tipo visione oltre all'istagmo e all'ostrabismo in un caso c'è stato un riscontro con l'oboma irideo e nel 70% dei casi appunto a livello uditivo c'è presente l'ipacusia di tipo bilaterale di grado moderato severo e di tipo neurosensoriale ecco questi sono stati i dati principali emersi dal nostro lavoro dalla mia tesi e ora vorrei ripassare la parola appunto a Alessandro perché entrerà in merito alla parte più importante di questo intervento appunto e spiegherà il vademecum per le famiglie e vi lascio la parola Alessandro una premessa doverosa non è facile provare a riassumere un po' tutte le indicazioni che esistono e che si possono provare a dare non è facile perché da un lato si può cercare di restare in un tema più generale e quindi di prendere tutti dall'altro in questo modo si rischia di tralasciare i problemi che poi sono specifici ad ogni modo sicuramente allo stato attuale delle informazioni e disposizione possiamo distinguere intanto due grandi gruppi diciamo su cui concentrarci per quanto riguarda la possibilità di garantire una adeguata presa in carico e un follow up nel corso del tempo di questi bambini sicuramente ci sono esigenze diverse se consideriamo il neonato affetto dalla PKS e il bambino nell'epoca di vita successiva per quanto riguarda il neonato possiamo pensare che il soggetto potrà avere bisogno di fare riferimento a una o più di queste figure professionali il neonatologo il chirurgo qualora ci fossero delle anomalie il cardiologo e dal punto di vista di una presa in carico quanto più precoce per garantire tutta la parte di sviluppo neurocognitivo e neurosensoriale il neurologo o neuropsichiatra infantile l'oculista e l'audiologo per quanto riguarda il neonatologo sicuramente possiamo considerare il fatto che il bambino con PKS come ha detto anche Emanuela prima può nascere al termine di una gravidanza che tra l'altro può essere gravata da alcune condizioni come il polidramnios e la macrosomia che possono esitare in un parto prematuro e questo può a sua volta condurre a degli elementi di fragilità ulteriori di cui sicuramente il neonatologo deve tenere conto in generale è sicuramente vero e vi ho riportato i dati raccolti da Giacomo quindi per quanto riguarda la nostra casistica che l'ipotonia di base dovrà essere presa in considerazione e correttamente gestita e contenuta soprattutto perché potrà andare ad influire sulle difficoltà alimentari che noi abbiamo raccolto in una misura che riteniamo essere più bassa di quanto si sia effettivamente verificato e altre difficoltà come il distress respiratorio che in un reparto di neonatologia può essere tranquillamente gestito per quanto riguarda il chirurgo neonatale deve sicuramente scendere in campo nel momento in cui vengono rilevate delle anomalie a carico del cavo orale come palatoschisi e io qui vi ho riportato sempre i dati delle corti principali quella americana del 2012 quella britannica del 2015 e i nostri dati ma non starò a denencarveli tutte le volte mi soffermerò solo sugli elementi più salienti e quindi il chirurgo viene chiamato in causa in caso di alterazioni del cavo orale di ernie e qui vi sottolineo come nella nostra casistica ma come appunto anche nell'erevio che si sono occupate effettivamente poi dei bambini il dato si è risultato effettivamente più basso in termini di presenza di percentuale rispetto a quanto era stato narrato in letteratura finché non sono stati fatti questi questi punti invece della della situazione e mentre ecco sicuramente l'ernia diaframmatica è un'ernia che deve essere precocemente riconosciuta e gestita corretta chirurgicamente ernie come quella umbilicale e inguinale a seconda della gravità con cui si possano presentare o meno meritano sicuramente un follow up chirurgico e una correzione solo in determinati casi il bambino con PKS può poi presentare delle malformazioni anorettali che vanno correttamente inquadrate e solo in determinati casi corrette da un punto di vista chirurgico abbiamo poi racchiuso nella frase testicoli non discesi tutte quelle situazioni in cui effettivamente fin dall'inizio i testicoli non vengono rilevati nello scrotto del bambino e va specificato che in alcuni casi i testicoli poi discendono ma in corso di follow up chirurgico si possono evidenziare i veri e propri casi invece di criptorchidismo dove è necessaria poi una correzione chirurgica per quanto riguarda il cardiologo il neonato può presentare una serie di difetti cardiaci congeniti cioè presenti alla nascita spesso soprattutto nei centri di terzo livello già diagnosticati in epoca prenatale altrimenti scoperti nei primi giorni di vita il cardiologo viene in questo caso chiamato per una precoce presa in carico sto parlando dei difetti interatriali interventricolari quindi tutti quei difetti a carico dei setti che dividono le camere cardiache il forame ovale pervio il dotto di botallo pervio un piccolo dotto un vasellino che deve chiudersi nel corso dei primi giorni di vita per consentire l'adeguato adattamento alla vita extrauterina e che in alcuni casi non si chiude e che in alcuni casi viene chiuso farmacologicamente o chirurgicamente fino ad anomalie delle valvole cardiache il neuropsichiatra infantile entra in gioco già in epoca neonatale e in partenza dovrà tenere in conto che il bambino con cui ha a che fare può essere un bambino che presenta delle anomalie strutturali a carico delle strutture cerebrali come vi è stato detto anche questa mattina e come è stato visto anche nel nostro studio dovrà tenere conto dell'ipotonia e dovrà tenere conto di eventuali fenomeni di natura epilettica che molto raramente in epoca neonatale molto più frequentemente già nei primi anni di vita vengono descritti sono tutte queste le condizioni di partenza con cui questa figura deve confrontarsi nell'ottica poi di capire come gestire il corretto sviluppo psicomotorio neurocognitivo figure che lo affiancano che in un qualche modo devono integrare i dati a disposizione sono l'oculista con i primi esami come una semplice valutazione del fondo oculare e poi successivamente un follow up per arrivare a identificare subito tutti quei casi di ipovisione che come vedete nelle casistiche sono estremamente numerosi e che vanno a condizionare ulteriormente il successivo sviluppo perché vanno a gravare su quei sistemi visivo e uditivo come vedete qui che ovviamente condizionano maggiormente la crescita del bambino e la sua capacità di relazione con l'ambiente circostante volendo quindi in un qualche modo provare a riassumere nel periodo neonatale possiamo pensare di poter affermare che sicuramente bisogna garantire una valutazione clinica neonatologica e secondo neonatologica e neurologica e secondo le necessità anche appunto da parte delle altre figure professionali chirurgica e cardiologica in primis e dal punto di vista della valutazione strumentale è certamente utile pensare di ricorrere a un'ecoencefalografia e in caso poi di riscontro di anomalie a successivi approfondimenti con una risonanza magnetica a un'ecocardiografia all'ecografia dell'addome e all'ecografia dei reni e delle vie urinarie quindi a tutte quelle metodiche di immagine non invasive che ci permettono di avere un punto di partenza di fare il punto della situazione per quanto riguarda l'ecografia delle anche bisogna ovviamente garantire questa ecografia a maggior ragione qualora tutti i vari fattori di rischio che il neonatologo conosce possano andare a gravare la situazione e che quindi permettano di identificare la necessità di capire se si va incontro al rischio in partenza di una lussazione congenita e poi dal punto di vista oculistico partire con un fondus oculi dal punto di vista audiologico anche se come screening a tutti i neonati vengono fatte le otto emissioni acustiche non è ragionevole pensare che questi bambini necessitino in partenza invece della metodica di approfondimento cosiddetta cosiddetta di secondo livello cioè gli ABR gli auditory brainstem response che valutano la risposta del tronco encefalico agli stimoli sonori un'RX del tubo digerente è sicuramente utile come è stato detto fin da questa mattina in ambito gastroenterologico per iniziare a discriminare l'eventuale presenza di malformazioni di tipo organico a carico dell'apparato digerente passiamo al bambino e vedete che già nel panorama molte figure rimangono altre figure si aggiungono per quanto riguarda il pediatra un pediatra deve sapere che rimarrà punto di riferimento e dovrà garantire una valutazione clinica cioè l'occasione di fare il punto di capire se sono emerse delle problematiche di indirizzare a chi di dovere per garantire la miglior gestione in assoluto possiamo dare indicativamente come periodicità del confronto tra la famiglia e il pediatra nei primi due anni di vita una cadenza trimestrale che poi si allunga ogni sei mesi dai due ai quattro anni e dopo i quattro anni una cadenza anche annuale possono essere necessari degli esami amatochimici e urinari che diciamo di base andrebbero condotti alla diagnosi sempre per avere un'idea iniziale e poi in assenza di alterazione è bene ripetere periodicamente e ovviamente con una frequenza maggiore a seconda degli specifici riscontri il neuropsichiatra infantile l'altro pilastro che deve occuparsi di questi bambini sa che nelle epoche di vita successive a quella neonatale dovrà confrontarsi molto di più con il fenomeno dell'epilessia che qui ovviamente ho riassunti in maniera estremamente generale rischiando di banalizzare posso dirvi che dagli studi condotti in America è stato proposto un cosiddetto pattern epilettologico cioè un insieme di caratteristiche che condivide con lo stesso tipo di proposta da parte invece dello studio britannico un'insorgenza nei primi anni di vita mentre molto più raramente già in epoca neonatale come vi ha detto anche il dottor Cordelli ed Emilia con una prevalenza a carico come tipologia di crisi degli spasmi infantili con la possibilità che ci viene segnalato la semiologia delle crisi possa anche cambiare nel tempo sottolineo che a livello italiano noi ancora non abbiamo un'idea così precisa e anche per questo come vi ha accennato il dottor Cordelli questa mattina vi ha ripetuto il professor Cocchi io sono l'ultimo chiudo dicendo noi abbiamo proprio intenzione di partire con uno studio sistematico ancora una volta contando sulla vostra collaborazione e sul materiale che so che anche Samantha vi ha preventivamente detto siamo interessati a visionare proprio perché vogliamo capire se se ci sono degli elementi comuni caratteristici di cui tenere conto sia per quanto riguarda l'epilessia sia per quanto riguarda lo sviluppo e lo stato dell'arte diciamo fare un punto della situazione anche sul neuroimaging e su tutta la situazione neurologica generalizzando quindi il neuropsichiatra ovviamente deve essere una figura presente fin dall'inizio e garantire un follow up che possiamo identificare con una periodicità di ogni 3-6 mesi periodicità che può cambiare ovviamente sulla base del successivo sviluppo su diciamo indicazione clinica allo stesso modo anche la valutazione strumentale un elettroencefalogramma di base e tutti gli altri esami di approfondimento sempre su necessità sostanzialmente auspichiamo che queste figure di base il pediatra e il neuropsichiatra mantengano una stretta collaborazione con tutte quelle figure responsabili della rieducazione dell'educazione e dell'assistenza che tanto bene questa mattina ci sono state spiegate e che sono figure indispensabili per garantire percorsi e qui devo dire assolutamente personalizzati volti a far emergere tutte le autonomie che questi bambini e futuri ragazzi possono sviluppare proprio per vivere al meglio la propria vita quotidiana inseriti nel contesto della loro famiglia e della società oculista audiologo e autorino laringoiatra intervengono ancora una volta per monitorare accertare definitivamente lo sviluppo neurosensoriale e intervenire qualora ci sia bisogno di correggere il tiro dal punto di vista cardiologico vi riassumo brevemente una volta escluse le cardiopatie congenite che per il termine stesso congenite sono presenti fin dalla nascita bisogna tenere conto del fatto che rimane necessaria una valutazione periodica sia come visita cardiologica che come monitoraggio ecocardiografico perché rimangono descritti casi più o meno aneddotici forse diventeranno qualcosa di più di sviluppo di cardiomiopatie in particolare la cardiomiopatia ipertrofica e di dilatazione del vaso aortico e per questo motivo rimane ragionevole indicare con una cadenza di ogni uno fino a un intervallo massimo di 5 anni controlli cardiologici che rimangano seriati nel tempo abbiamo in un qualche modo ammetto inventato questa diapositiva già come dio perché la letteratura è a riguardo del versante pneumologico è estremamente scarsa e vaga però sulla base di quello che ci avete raccontato voi i fenomeni a carico dell'apparato respiratorio delle alte vie respiratorie cioè della gola ma soprattutto delle basse vie quindi polmoniti in particolare abingestis e anche questo termine è tornato più volte questa mattina sono fenomeni che non sono infrequenti abbiamo anche il sospetto che nella nostra popolazione possano esserci dei problemi respiratori diciamo che si verificano più nella fase invece notturna o comunque nella fase del sonno e anche su questo vorremmo fare un po' il punto della situazione sicuramente diciamo che l'opneumologo deve essere un'altra figura che merita di entrare in campo all'inizio sempre per avere un quadro della situazione di partenza e poi sulla base della necessità clinica per quanto riguarda il gastroenterologo e tutte le figure correlate una volta escluse o comunque risolte le questioni di malformazioni di base di quelle malformazioni anatomiche che più facilmente vengono identificate nel contesto neonatale sicuramente nell'epoca di vita successiva sappiamo che ci dovremo confrontare con la disfagia e con l'insorgenza di reflusso gastroesofageo di questo è stato ampiamente trattato quindi sorvolo rimane come indicazione sicuramente quella di fare riferimento a figure professionali specifiche e dedicate e di tenere conto come vi è stato molto ben spiegato questa mattina che purtroppo sebbene la diagnosi di reflusso gastroesofageo nel soggetto adulto che riesce a comunicare senza problemi sia una diagnosi clinica per questi bambini rischia di essere più necessaria una valutazione strumentale anche se recentissimamente è stata data l'approvazione e l'indicazione a introdurre una terapia qualora il sospetto ci sia senza dover necessariamente documentare da un punto di vista invasivo la situazione presente il nefrologo entra in campo nel momento in cui da un punto di vista radiologico per ecografia addome che venga effettuata e che riscontra un'anomalia o da un punto di vista clinico vengono documentate delle infezioni delle vie urinarie febbrili ci si ponga al dubbio appunto che l'apparato nefro urinario quindi i reni e vie urinarie possano presentare delle anomalie di cui è bene tenere conto e a cui è bene approcciarsi in maniera specifica sarà sicuramente il nefrologo a determinare la necessità di ripetere eventuali ecografie e di approfondire in maniera più specifica con esami quali la cistografia e la scintigrafia sulla base del contesto in cui si starà trovando ad operare dal punto di vista odontoiatrico anche qui abbiamo avuto un intervento molto ben preciso per cui sottolineo solo come possiamo pensare di far partire valutazioni seriate a partire dall'anno di vita anche se è stato sottolineato oggi che non è infrequente l'esperienza di prendere in carico la famiglia già prima dello sviluppo della dentizione proprio per avviare una terapia del tutto preventiva a livello del cavo orale esami come l'ortopantomografia sono sicuramente importanti per valutare la presenza di determinati elementi dentari e diagnosticare capire meglio classificare bene la malocclusione a livello di profilassio odontoiatrica c'è stato insegnato oggi il dentifricio con fluoro cavitazioni sigillature sono tutti elementi che possono in partenza aiutarci nel contesto di un regolare follow up che poi può aiutarci a correggere il tiro di volta in volta infine dal punto di vista ortopedico sappiamo che questa figura professionale dovrà confrontarsi con alterazioni delle estremità accorciamento degli arti situazioni che possono essere presenti fin dall'inizio lussazione delle anche una situazione che come vi ho detto prima può essere presente in maniera congenita ma in questi bambini può svilupparsi anche a seguito dell'ipotonia nel corso del tempo e tutte le alterazioni dell'asse dell'arachide quindi della colonna vertebrale su cui sempre influisce il contesto di ipotonia che grava fin dall'inizio anche qui quindi è necessario che questa figura abbia si faccia un'idea di partenza e poi intervenga secondo la necessità clinica aiutandosi con i dovuti strumenti radiologici per poi predisporre il management più appropriato per concludere quindi tentando ripeto sempre di generalizzare il follow up di questi bambini deve essere un follow up di tipo generale dove ci sono queste figure come colonne portanti che si accompagnano alle figure che devono garantire poi un adeguato sviluppo della componente neurosensoriale è un follow up di tipo specialistico che vede le varie figure entrare in campo al bisogno alcune con determinate periodicità e avvalendosi di alcuni specifici strumenti grazie per l'attenzione applausi 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 e chiudiamo con una breve riflessione sul sull'importanza delle vaccinazioni anche nei bambini con pks perché il problema della prevenzione profilassi vaccinale è qualcosa di particolarmente di attualità mentre è qualcosa che noi pediatri da tempo poi prego comunque grazie Parliamo di vaccini PKS rispondendo ad alcune domande che qualsiasi genitore potrebbe porre al pediatra di base. La prima domanda a cui rispondiamo è se la PKS rientra tra le materie genetiche in cui è controindicata la vaccinazione. Ci basiamo sulla guida alle controindicazioni alle vaccinazioni del 2009 dell'Istituto Superiore di Sanità. La risposta a questa domanda è un fermo no. Non c'è nessuna controindicazione di per sé alla vaccinazione della PKS per due motivazioni principali. La prima è perché la PKS non rientra tra i deficit primari dell'immunità innata ed adattativa. L'altra è perché la PKS non porta con sé anomalie metaboliche. L'altra domanda a cui rispondiamo è se il nostro bambino con PKS presenta alcune problematiche. È bene o no vaccinarlo? Queste problematiche sono problematiche che come abbiamo visto precedentemente possono essere frequenti come l'idrocefalo, l'epilessia, la cardiopatia congenita, il ritardo di crescita, l'autismo. In alcuni casi sono descritti i bambini con PKS che presentano l'autismo. E problematiche respiratoriche di cui abbiamo largamente parlato. Anche in tutti questi casi non c'è nessuna controindicazione alla vaccinazione. Ma quindi la domanda è quando è controindicato la vaccinazione in un paziente che può essere riferito a un paziente con PKS ma in generale a qualsiasi bambino. Esistono due principali controindicazioni che sono la reazione allergica grave, una reazione anafilattica alla somministrazione di una precedente dose di vaccino e l'altra è se il bambino presenta una reazione allergica grave a una componente del vaccino. Logicamente come sapete i vaccini non contengono solamente l'antigene su cui poi si basa la vaccinazione ma anche alcune altre sostanze adiuvanti che in alcuni casi possono essere allergeni come ad esempio la gelatina o le proteine della farina, del latte. E poi bisogna tenere presente due precauzioni importanti. Ovvero nel momento in cui il bambino presenti una malattia acuta grave o moderata con o senza febbre è consigliata rimandare la vaccinazione in quanto appunto il bambino in quel momento potrebbe presentare una temporanea situazione di immunodepressione. E l'altra precauzione è se il bambino ha un'allergia al lattice che potrebbe essere contenuto nella siringa. La domanda quindi inoltre può essere quali sono gli effetti avversi al vaccino. Purtroppo non si vede molto bene nella presentazione. Comunque sia, i più frequenti effetti avversi al vaccino, e queste sono le principali vaccinazioni che devono essere effettuate in età pediatrica, sono comunemente la febbre e la reazione sul sito di iniezione. Poi per ogni vaccino sono presenti effetti avversi specifici. Previamo ad esempio la dibattuta vaccinazione sul morbillo, la trombocitopenia, che è una complicanza che si presenta su 30.000 casi, o le encefalomielite addirittura di uno su un milione di casi. Rispondiamo ad un'altra domanda. Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e quali consigliate? Logicamente in questo caso ci riferiamo alla realtà italiana. Mi dispiace per i presenti dei paesi esteri, che tuttavia, ho saputo che oggi sono presenti una famiglia inglese, e ho letto che in Inghilterra non c'è nessuna vaccinazione obbligatoria. Tuttavia la copertura vaccinale è di circa il 100%, quindi questo è un dato importante. Appunto quest'anno è uscito il decreto legge del 7 giugno che ha portato innovazioni riguardo appunto alla vaccinazione e soprattutto riguardo alle vaccinazioni obbligatorie. precedentemente le vaccinazioni obbligatorie erano la vaccinazione contro l'apoglio, contro la difterite, contro il tetano e la vaccinazione contro l'epatite B in Italia, quindi 4 vaccinazioni obbligatorie. Ad oggi le vaccinazioni obbligatorie tra i 0 e i 16 anni sono, oltre alle 4 precedentemente citate, la vaccinazione antipertussica, antiemofilus e la vaccinazione tetravalente, il morbillo, rosolia, parotite e varicella. Logicamente queste vaccinazioni non saranno somministrate singolarmente in un bambino, ma sono vaccinazioni che vengono effettuate, raggruppate, ovvero le prime 6 è la vaccinazione esavalente, mentre le ultime 4 è la vaccinazione tetravalente. Tra le vaccinazioni raccomandate sono presenti le vaccinazioni contro il meningococco B e C, la vaccinazione antipneumococica e la vaccinazione antirotavirus. Questo appunto è il calendario vaccinale del piano nazionale di prevenzione vaccinale del 2017-2019 e vediamo che la vaccinazione esavalente deve essere effettuata al terzo mese, al quinto mese, all'undicesimo mese e l'ultimo ritiamo al quinto-sesto anno di vita, mentre la vaccinazione tetravalente deve essere effettuata tra il tredicesimo e il quindicesimo mese di vita con una rivaccinazione tra il quinto del sesto anno e quindi parliamo solamente delle vaccinazioni obbligatorie. L'ultima domanda è una domanda sulla vaccinazione antinfluenzale, ovvero il bambino con PKS deve fare la vaccinazione antinfluenzale? La risposta è che di per sé il bambino con PKS deve fare la vaccinazione antinfluenzale perché ha dei fattori che aumentano il rischio di complicanze da influenza e questi fattori di rischio sono le malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, come abbiamo oggi detto, anche dovute al fatto che il bambino possa presentare un ristagno di secreti e quindi aumentare anche l'aspirazione delle secrezioni respiratorie o in alcuni casi i bambini che presentano, come abbiamo detto, possono essere presenti cardiopatia congenita. Con questa vi ringrazio e vi salutiamo con Alessandro. Bene, abbiamo concluso, siamo un pochino oltre i termini, però credo, come avevamo detto, se ci sono delle domande, soprattutto quei relatori della mattina o anche del pomeriggio, che è stata data l'opportunità e sono credo ancora disponibili ancora in sala, quindi se ci sono delle domande da parte di... Iniziamo con le domande per la dottoressa Magistà. Allora, dottoressa Magistà, sì, ci sono delle domande relativamente all'aspetto, pur se vuole... Qualche domanda per la dottoressa Magistà e le colleghe, perché avevano anche fretta. Ecco, meno male. Volevo chiedere per il discorso stitichezza, perché Federico ormai ha 20 anni, è un ritmo di 4-5 giorni e io non ho mai insistito a forzarlo nel senso che lui, sappiamo che alla fine del quinto giorno, non si scarica sicuramente. Se abbiamo degli impegni, passiamo a altri metodi. Però, però volevo chiedere, ci avevano consigliato questi bustini da mettere nel... Ecco, però non ci eravamo trovati bene, perché dopo non si capiva più quando era il momento, nel momento, cioè dopo faceva una cosa ingestibile a 20 anni, secondo me, ingestibile. C'è qualcos'altro che può non diventare come un lassativo, però che può regolare la cosa un po' meglio. Lui evacua ogni 5 giorni e riesce a farlo spontaneamente senza che queste evacuazioni creino delle problematiche particolari, quindi non ha dolori addominali associati, non ha delle alterazioni. Gli effici sono molto dure, lui ha necessità di sforzarsi molto? No, ma magari la prima parte, però poi no. Continuiamo con la scuola dell'evacuazione. Perché, ecco, la definizione di stipsi si basa anche sulla frequenza delle evacuazioni, quindi noi parliamo di stipsi in presenza di un numero di evacuazioni generalmente inferiori a 2, però bisogna comunque individualizzare la condizione, cioè nel senso che un bambino che pur con questa frequenza di evacuazioni bassa non ha delle implicazioni importanti in termini clinici. Non è detto che debba accanirsi necessariamente sulla, cioè non deve rincorrere necessariamente una regolarità. Probabilmente quel farmaco, effettivamente, un aspetto importante del Marco Goll è che deve essere fortemente modulato sulla base del bambino, cioè noi abbiamo dei dosaggi standard che vanno da 0,8 a 1,5 grammi pro chilo, però diciamo sempre al genitore di modularla in base alla risposta, cioè si potrebbe anche provare a ridurre il dosaggio giusto con la finalità di rendere un po' più morbide le feci. Io farei questo tentativo perché altri farmaci, ci sono una serie di prodotti naturali che probabilmente ha già provato, però ecco il farmaco di elezione è sicuramente il Marco Goll, proverei a ridurre il dosaggio essenzialmente di quello e soprattutto insistere sul fatto che è vero che sarebbe preferibile evacuare con una frequenza maggiore di una volta ogni 5 giorni, però se questo non ha effetti sul bambino, allora si può stare tranquilli comunque. Però poi appunto riuscite a riconoscere che in quel giorno evacuerà. Certo. Per il reflusso esofageo, noi abbiamo già fatto una volta un esame alla Sacra Famiglia Cesano Boscone per vedere se avesse perché aveva problemi respiratori questo reflusso o meno, è risultato negativo, era bella anche la mucosa eccetera, però Federico avrà avuto 10-12 anni. Ogni tanto mi capita di vedere sul cuscino come diceva lei delle macchie gialle perché vedo che quando sta soprattutto sul sinistro che probabilmente la scogliosi comprime lo stomaco perché ha questa scogliosi molto importante. Invece di passare ai farmaci normali, se dovessimo, io l'ho usato per me, poter usare il tipo il farin gel, qualcosa di un pochino più... A me ha fatto effetto, che sono la sua mamma però... Si tratta, il farin gel è un prodotto che chiamiamo gastroprotettore, cioè dovrebbe avere come finalità quella di creare una sorta di film che va a proteggere, nel caso del farin gel in particolare che forse non trova grande collocazione nel reflusso, però dovrebbe andare a proteggere l'esofago e creare una sorta di film che limita l'azione del secreto acido. Ora, resta il fatto che, come dicevamo, se ci sono dei sospetti clinici, allora il segno del cuscino bagnato va bene, però lui è agitato durante le ore notturne, è irritabile, questo può esserlo per tanti altri motivi, sappiamo benissimo, problemi discogliosi, problemi osseo-articolari, che sono una delle fonti importanti di sintomatologia dolorosa notturna. Durante le ore diurne non ci sono altri sintomi di sospetto importanti per il reflusso, cioè l'indicazione ad avviare una terapia ex adjuvantibus, cioè senza fare un'indagine strumentale, effettivamente che ci è stata autorizzata dall'ESPDA recentemente, si pone essenzialmente nei casi in cui abbiamo un forte sospetto di una malattia in cui il reflusso genera stress, genera sintomatologia importante, in quel caso siamo autorizzati a ricercarlo. E in questi sarebbe opportuno avviare un trattamento, per cui negli altri sicuramente è importante fare un follow-up clinico attento, modulare l'evoluzione della sintomatologia. Va bene. Abbiamo altre domande? Per la dottoressa Magistà, la dottoressa Pelletti, perfetto, arrivo. Io sono la mamma di Erika, Erika ha 20 anni, 21 a ottobre, e anche io volevo farle una domanda a proposito della stipsi, perché Erika non sappiamo quando possiamo dire che va regolarmente di corpo, perché lei andava bene fino a gennaio, poi dopo un episodio non è stata bene, ha avuto una sincope una mattina, è caduta, da lì ha avuto un sacco di problemi, ha riavuto delle crisi epilettiche più frequenti, il ciclo, da allora abbiamo avuto dei forti ritardi, e ha cominciato a fare sempre delle palline, proprio palline durissime, va in bagno anche dieci volte al giorno, e si sforza, proprio si contrae. Noi gli abbiamo dato dei prodotti naturali, ma anche ascoltando le consiglie della dottoressa, prende le fibre tutte le mattine, bene fibra, per quanto riguarda l'alimentazione lei mangia tutto, però diciamo che anche noi regolarmente mangiamo biscotti integrali, pane integrale, pasta integrale, insomma ci siamo adattati al suo stato. e oltre alle fibre, la dottoressa ci ha consigliato di darle la manna, perché c'è un prodotto naturale che ammorbidisce le feci, però lei all'inizio sembra che le faccia effetto, però dopo qualche giorno non le fa più effetto, e io ogni due o tre giorni, c'è da premettere che Erika va al bagno da sola, e quindi è autonoma, sì, diciamo, alcune autonomie, diciamo, vai in bagno da sola, e a volte io, quando me ne accorgo, le vado subito dietro e sto lì, aspetto che lei, insomma, evacui, altrimenti lei appena arriva, scarica di continuo il bagno, e quindi non vediamo se... e ogni tre o quattro giorni io le faccio un clisterino di Melilax di miele. Con il Melilax lei va, dopo un po', dopo una mezz'oretta va, però il giorno dopo ricomincia da capo. Grazie per questa domanda. Ora metto qui, così non do le spalle a nessuno. Sì, allora, effettivamente prima di gennaio diceva che evacuava regolarmente. Tanti sono i fattori che possono intervenire nel comportare un'alterazione dell'albo, probabilmente la problematica neurologica, che si è accentuata, forse anche alcuni cambiamenti terapeutici che avete fatto. Tre mesi prima di gennaio, del primo febbraio, quando lei ha avuto questa sincope, in accordo con la dottoressa, con la neuropsichiatra che la segue per le crisi epilettiche, stavamo cercando di ridurre un farmaco. però poi siamo dovuti tornare alla posologia iniziale, perché non lo so se è stato quello l'effetto, cioè questo effetto che ha avuto, però comunque da allora si è scombussolata. La domanda permette di puntualizzare un aspetto importante. Nella gestione della stipsi uno dei consigli che viene comunemente dato è quello di aumentare l'apporto di fibre, l'ho anche riportato tra le indicazioni. Però siccome uno dei fattori che intervengono nella stipsi, in questi bambini, così come in altri con problematiche neurologiche, è un'alterazione della motilità, a volte aumentare il quantitativo di fibre non ci aiuta a migliorare la stipsi, perché si crea un effetto, di fatti si crea un effetto massa, perché le fibre aumentano il volume delle feci, se c'è una dismutilità, queste feci comunque rimangono nell'intestino e creano una sorta di blocco, un fecaloma. E' questo quello che molto probabilmente si è realizzato, quindi noi insistiamo forse molto più con l'acqua che con le fibre. Ecco. Bravissima, sì, ed è un bene che le riesca ad assumerla. Bene, però visto che per una serie di problematiche si è innescato un'alterazione delle sue evacuazioni, io interverei con una terapia farmacologica e quindi utilizzerei un prodotto che ha come finalità quella di migliorare la consistenza delle feci. Abbiamo citato il macrogolo, perché è uno dei più utilizzati. Perché ora rischia di crearsi un circolo vizioso, cioè lei vive il momento dell'evacuazione come un momento doloroso. E' un momento che sicuramente potrebbe crearle anche delle lesioni con delle fissurazioni. Quindi bisogna intervenire. A volte c'è reticenza anche da parte dei colleghi nell'utilizzare dei farmaci per la stitichessa, perché l'idea comune è quella che si creino delle dipendenze, si crei un'assuefazione. E' fondamentale invece interrompere il circolo vizioso della stipsi, perché se il bambino o il soggetto ha la percezione di una difficoltà a lungo andare, poi eviterà quell'atto, perché gli genera dolore. Questo da un lato. Dall'altro è molto probabile che si crei quel fenomeno di cui parlavamo stamattina, della diarrea paradossa. Cioè lei potrebbe avere delle feci che impattano il retto, però lei vede del materiale, cioè lei evacua del materiale, che magari può essere di consistenza anche morbida, ma ci sono tante feci lì. E questo può dimostrarlo il fatto che lei ha necessità di utilizzare clisterini, con quelli evacua una quantità minima di feci, ma il giorno dopo ha necessità di svuotarsi. Quindi bisogna utilizzare qualcosa dall'alto, quindi qualcosa che deve essere assunto per bocca, che ha come finalità quella appunto di rendere più morbide le feci. E l'utilizzo invece dei clisterini, per quanto possibile, va invece procrastinato, perché si tratta sempre di un'operazione sull'ano, cioè di un intervento dal basso, che crea disagio. Alla fine bambini, soprattutto piccoli, rifiutano qualsiasi tipo di manovra ed evitano anche di evacuare per la paura di... Ha bisogno forse... Brava, ma perché associato, sì, lei poi è comunque grande, le assicuro che i bambini piccolini poi alla fine operano tutti i meccanismi possibili per opporsi a questa procedura. Quindi bisogna agire dall'alto. Va bene? Grazie dottoressa. Se non ci sono altre domande per la dottoressa, c'è un'altra? Per la dottoressa Magistà? Ok. Buonasera. Spero che mi faccia capire in italiano. Non sono italiana, sono da Romania. Allora, Cristian ha tre anni. Figlio mio ha l'intoleranza alla proteina di latte. Non lo facciamo mangiare i latticini, perché se lo facciamo mangiare, certo, cioè non va al bagno, si cambia colore, va ogni due giorni, si cambia colore, c'è il gas, è gonfio, non dorme bene. Se non mangia, certo che sta bene. La domanda è, c'è qualcosa che noi lo possiamo aiutare a passare questo periodo o dobbiamo aspettare fino a quando lui cresce e la sistema immunitario si matura? Grazie mamma. Effettivamente l'intoleranza alle proteine del latte si può manifestare con la stitichezza in alcuni casi. Quindi lei dice che eliminando il latte, i derivati del latte e della dieta, lui sta meglio. Non c'è da dargli torto. Però ecco, una rassicurazione che sicuramente anche altri dottori gli hanno dato è che in una percentuale molto alta di casi, che supera anche il 90%, perlomeno il problema delle allergie alle proteine del latte, e quindi le forne mediate da un meccanismo particolare tendono comunque a risolversi nel tempo. Quindi, io non so che se avete fatto la diagnosi con degli esami particolari, soltanto sulla base della clinica, ecco, magari il tentativo che si può fare, ecco, il tentativo però che si può fare nel tempo è quello di provare di volta in volta ad introdurre delle piccole quantità di proteine del latte e valutare la risposta del bambino. Quindi questo tentativo a tre anni io proverei a farlo, perché comunque solitamente sino ai due anni questa problematica è più evidente. il problema è che è difficile se fai un giro in casa, se fai un giro è difficile che si fai un giro sempre prodotti dentro l'altra. però ecco, io perlomeno a casa dei piccoli tentativi di riesposizione le farei e valuterei poi la risposta oppure sì cioè comunque provare magari a vedere se anche l'utilizzo di alcuni farmaci per evacuare perché è probabile siccome quindi è quello il problema di fatti è quello però ecco a tre anni io proverei a rintrodurre delle piccole quantità perché partendo dai derivati di solito si parte dai derivati sì e poi si si introduce sempre con quantità crescenti il latte che è generalmente l'ultimo ad essere introdotto è quello che contiene una quota maggiore di proteine sì prego allora abbiamo qui un'altra domanda per la dottoressa Alboresi buonasera mio figlio faceva normalmente l'FKT la mobilizzazione degli arti e tutto solo che quattro anni fa grosso modo c'è stata l'ossazione dell'Anca a quel punto lei si è fermata e si limita appunto a fare dei massaggi e a lavorare sul resto del corpo e lei si è come stamattina accennato qualcosa però volevo sapere come procedere se c'era una maniera più specifica prego allora qui il problema della lussazione dell'Anca è un problema che ci prenderebbe molto tempo per essere trattato perché sono presenti le lussazioni cosiddette congenite cioè le displasiacetabolari quindi già presenti nelle primissime fasi e abbiamo sentito anche un po' in tutte le relazioni come ci sono le due problematiche opposte perché l'ipertono è tipicamente correlato alle lussazioni acquisite dell'Anca cioè il bambino che sviluppa una grande forza muscolare che è il muscolo che si contrae anche quando non dovrebbe e in queste situazioni un'Anca soprattutto se è già anche se non è completamente lussata ma già un acetabolo displasico ovviamente può migrare ulteriormente quindi credo che sia veramente una la palisterchilian sia un esempio in cui possiamo avere la problematica d'Anca a più ampio spettro cioè lussazione congenita lussazione acquisita e lussazione acquisita su una diciamo displasia scarsa continenza acetabolare già in partenza detto questo però io non posso nel modo più assoluto dare un'unica risposta è una risposta univoca a due problematiche come sono l'ipotono e l'ipertono ok cioè sul piano riabilitativo è allora sì allora mi fa pensare davvero che il muscolo centrasse abbastanza poco se è una situazione di ipotonia e che appunto in partenza la conformazione della testa femorale dentro l'acetabolo sia stata diciamo poco congruente perché allora la ricaduta fisioterapica sarebbe diversissima laddove si fanno soprattutto manovre di mobilizzazione ne parlavo anche stamattina non durante la relazione ma dopo qualche domanda le manovre di immobilizzazione quindi di potenziale stretching o stiramento muscolare se ho un fulcro debole sono manovre con anche degli elementi di rischio perché volendo allungare un muscolo non vorrei mai danneggiare un fulcro perché il punto di debolezza è quello interno è l'anca tant'è che qui probabilmente adesso non so c'è stato accennato un po' con il monitoraggio d'anca in altre situazioni di bambini con spasticità o nel momento in cui c'è o esordisce anche più successivamente la spasticità credo che il monitoraggio almeno un'acquisizione di un RX bacino al di là di quella che sia stata la situazione ecografica che può diciamo valutare l'anca nei primissimi mesi sia un elemento molto importante e quindi l'anca è un problema riabilitativo numero uno perché con l'anca lussata c'è anche la postura seduta per esempio c'è un altro un'altra componente che è l'ipermetria o l'ipometria c'è l'ipometria primitiva qua che ci può essere ma può anche esserci un'ipometria secondaria perché se l'anca lussa l'arto si accorcia e questa è una ricaduta sui sistemi posturali ha una ricaduta sulle scelte del tipo di tutore che posso andare a costruire posso ancora per esempio se c'è tra virgolette una prognosi favorevole in quella direzione proporre la verticalità io sento anche per altre patologie il non verticalizzare il bambino se l'ha anche lussata non è quello certo il carico è un elemento lussante non è un elemento centrante come in condizioni diciamo di assenza di pertono quindi è una problematica direi che pone senz'altro grande grande attenzione a tutte le manovre di mobilizzazione da parte dei terapisti e niente su questo colgo anche l'occasione per poter dire per poter spiegare o cercare di spiegarvi che e questa sindrome è davvero significativa da questo punto di vista che ho una grande variabilità ogni bambino deve avere una proposta altamente personalizzata e il ragionamento che faccio in una condizione di ipertonia con un'anca lussata o con un'anca lussata bilaterale o in assenza di lussazione d'anca deve variare la mia proposta terapeutica è diversa su ogni bambino e devo dire che invece faccio un po' fatica ad accettare una proposta che venga in qualche modo estesa a tutti cioè che vada bene per qualsiasi bambino come se avessi la risposta ancora prima di avere la domanda ok cioè i metodi soprattutto quelli con l'eponimo in realtà tendiamo un pochino ad averli abbandonati poi nel tempo nel senso che sono un elenco di esercizi e sono un approccio abbastanza diciamo in cui c'è una serie di cose da fare una posologia addirittura cioè un dosaggio ben preciso una frequenza settimanale una frequenza di orario che in realtà se non entriamo nel merito di che cosa stiamo facendo per quale obiettivo lo stiamo facendo qual è la tolleranza di quel bambino è molto difficile diciamo condividere questo tipo di proposte questo ovviamente prende in causa anche altre cose insomma che avete sentito in questa reazione certamente l'approccio è abbastanza diverso ecco e scusate perché non voglio monopolizzare insomma la discussione però ed è l'ultima cosa che vorrei dire è l'aspetto tornare di nuovo sulla tolleranza del bambino sulla tollerabilità quando facciamo dei percorsi fisioterapici quello è davvero il primo elemento da cui partire mi dispiace un po' quando ho sentito del bambino lasciato alla fisioterapista e si esce cioè no il bambino è presente alla seduta c'è un'irrettabilità tale nei primi mesi nei primi anni poi non dimentichiamo che sono bambini che hanno delle difficoltà sensoriali quindi la loro relazione col mondo passa dal corpo dell'adulto della mamma in primis poi nei mesi magari ci vogliono mesi per essere per tollerare la posizione in braccio alla terapista per dire quindi si comincia a fare i primi approcci fisioterapici in braccio all'adulto fino a che non c'è una tollerabilità sufficiente tolleranza sufficiente per essere per poter essere per esempio posizionato su un sistema molto avvolto un cuscino una cosa del genere cioè avete capito che questo secondo insomma noi è un elemento fondamentale cioè il bambino che piange ininterrottamente nella seduta la seduta non va avanti e non va avanti per settimane avete capito io questo faccio un po' fatica ecco a digerirlo scusate grazie dottoressa Alboresi abbiamo un po' sforato quindi io direi che se abbiamo altre domande al massimo due domande grazie posso fare una domanda al neuropsichiatra sì la domanda è brevissima c'è una frequenza delle crisi epilettiche accettabile cioè nel momento in cui si inizia la terapia le crisi si riducono tanto ma non scompaiono c'è un equilibrio e poi una breve invece considerazione brevissima cioè mio figlio Pietro nonostante tutte le terapie che faceva non dormiva aveva seri problemi di insonnia poi parlando con un collega babbo di un altro bambino con la sindrome Franco che approfitto per salutare se ci sta guardando ciao Franco mi ha consigliato noi diamo la melatonina a Pier Carlo da quando ho dato la melatonina non so se sia un effetto placebo ma è stato un farmaco miracoloso cioè miracoloso cioè io vorrei dirlo a chi ancora non lo sa io non lo sapevo e sono stato miracolato da questo farmaco Pietro dorme tutte le notti e cosa che non era mai capitato prima grazie grazie a lei perché allora la prima domanda è una bellissima domanda mi permette la risposta secca è no non esiste un parametro per cui è accettabile un certo numero di crisi a volte può essere accettabile nella visione generale del bambino perché il nostro obiettivo non è togliere le crisi togliere i problemi gastrointestinali e far stare il bambino il meglio possibile quindi nella visione generale del bambino a volte può capitare che sia accettabile una situazione di crisi non completamente controllate che nella vita del bambino non lo disturbano più di più di tanto ovvero se devo usare cinque farmaci per togliere le crisi che magari gli danno tantissimi effetti collaterali piuttosto ne uso uno o due che riescono a tenere una situazione di una frequenza non altissima che magari crisi magari brevi che non danno fastidio e però in cambio non ho un sacco di effetti collaterali quindi è il solito discorso di costruire il vestito sul bambino cercando di mirare non solo a un pezzo ma a tutto il benessere generale facile a dirsi a volte più difficile a farsi nel secondo caso la melatonina la melatonina al di là dell'esperienza nella sindrome di Pallister-Killian è un farmaco che ci dà spesso delle grandissime soddisfazioni nei disturbi del sonno dei bimbi in particolare dei bambini con disabilità intellettiva e dei bimbi con sindrome con sindrome genetiche quindi non mi stupisce per niente la sua esperienza e l'esperienza penso anche di tante altre famiglie che sono in questa sala non a caso è stato un consiglio non venuto da un medico ma da un papà che aveva avuto un'esperienza analoga anche in questo sarebbe molto importante e molto utile mi ricollego approfitto per ricollegarmi al discorso che facevamo prima ripreso più volte oggi di valutare in modo più sistematico in tanti bambini tutte queste situazioni cioè tutto anche dal punto di vista dei disturbi del sonno delle crisi epilettiche quali possono essere le soluzioni che più frequentemente che più frequentemente si ritrovano e le soluzioni che in alcuni casi già sono state nella vostra esperienza quotidiana quindi questo è non so se ho risposto grazie dottor Cordelli un'altra domanda lasciamo spazio a un'ultima domanda se avete approfittate vivendo un'ultima domanda e un'ultima risposta eccola per l'oculista gliela mandiamo in diretta vediamo gli lanciamo la domanda poi quando ci rivedrà però intanto io sono una pediatra la pediatra di Greta che è qui con noi oggi e volevo ringraziare tantissimo i relatori perché hanno fatto interventi molto utili per me ho imparato tante cose e spero di seguire meglio Greta e per l'oculista volevo chiedere che margine c'è di intervento visto che il danno è pre-chiasmatico e retro-chiasmatico e della sostanza bianca quindi che senso ha l'occlusione dell'occhio eccetera grazie allora gireremo la domanda al dottor Salati chiedendogli magari poi vi metteremo in contatto e faremo sapere a tutti la risposta a questo punto io direi che potremmo fare una bella foto tutti insieme con tutti i nostri relatori dietro e tutte noi famiglie sotto e poi chiudiamo qui questa giornata scientifica vi ringrazio veramente tantissimo grazie a tutti i medici grazie a tutti voi ci vediamo questa sera alle nove alle 21 no ci vediamo alle nove facciamo la foto intanto grazie grazie e qui adesso si devono trovare i medici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti